registerò questa live. Allora parliamo di vestiti e per parlare di vestiti ovviamente partiamo da un uomo nudo, non è che ha molto senso no, fondamentalmente questa è la mesh base che utilizzerò per farvi vedere un po' di esempi. Allora quando si parla di vestiti adesso carico anche un altro po' di esempi, ovviamente facciamo questo qua, questo qui è un labbozzo di uno degli ultimi modelli che ho fatto, fondamentalmente io vi spiego qual è il mio approccio, cioè l'approccio che io uso per scolpire i vestiti. Siccome io fondamentalmente lavoro principalmente per roba inerente al 3D print, ovviamente il mio approccio alla scultura dei vestiti sarà sicuramente diverso rispetto a qualcuno che deve fare roba per animazione o roba che comunque si adora essere animata. Quindi ovviamente vale sempre la regola che quando dovete fare una cosa bisogna anche capire la finalità. Quindi questo è un approccio come ad esempio Valerio l'altra volta aveva spiegato il metodo di texturing di un qualcosa che è i poli, quindi non era pensato per essere un modello in game eccetera. Questo è un approccio che può essere utile per andare a scolpire qualcosa che fondamentalmente va scolpita in posa. Quindi tutto il discorso dei fold, tutto il discorso del setup è finalizzato comunque a ottenere qualche cosa che comunque sarà già in posa. Perché se comunque dovessi fare, cosa che mi capita molto poco spesso, un qualche cosa che invece è più pensato per essere animato, probabilmente farei con un approccio del tutto diverso. Allora, questo è un esempio di un modello che, questo era uno dei primi whip di un modello a cui ho lavorato ultimamente e fondamentalmente per fare le basi dei vestiti io generalmente posso utilizzare due approcci. Perché la domanda che forse mi viene fatta molto spesso quando comunque sia ascoltisco i vestiti è usi Marvelous o non usi Marvelous. Quindi la prima domanda chiave che comunque poppa sulla testa di tutte le persone Marvelous sì o Marvelous no. In realtà non c'è una risposta vera perché fondamentalmente quando voi fate qualsiasi tipo di lavoro, adesso prendo questi qua, sono due esempi di, ok, approcciate il, cioè utilizzate un procedimento atto a minimizzare quelli che sono i tempi. Quindi nella mia logica, cioè io vado a utilizzare Marvelous solo tutte quelle volte che penso che fare una cosa in Marvelous mi porti meno tempo rispetto a scolpirla. Quindi questo è, se vogliamo fare un comparison, questa è la stessa giacca che poi è stata tramutata in questa. Quindi potete vedere che io fondamentalmente se uso Marvelous, siccome sono una pippa a usarlo e ho bisogno di fare fondamentalmente roba che poi andrà messa in posa, se devo fare qualcosa in Marvelous e passo in Marvelous ci passo principalmente per fare giusto la base scolpibile che poi so che cambierà totalmente perché se qui guardate i fold, questo era un whip, fondamentalmente di questa base ho ottenuto solamente questo. Perché utilizzo una base in Marvelous? Per cosa utilizzo una base in Marvelous? In genere la utilizzo per cominciare a studiare, per crearmi un vestito che abbia delle patch e qui adesso lo vediamo e poi vi spiego il discorso delle patch, se qui faccio un forse così funziona, ok, che abbia una suddivisione di pattern, voi sapete un vestito fondamentalmente è creato, un vestito è l'inverso che voi fate quando fate una mappatura UV, cioè quando voi mappate in UV un oggetto 3D lo stendete su un piano, un vestito è rendere tridimensionale delle patch che sono piane. Quindi un vestito generalmente, se qui adesso faccio Morphe UV, UV Map, Morphe UV, ok, un vestito viene creato praticamente tagliando tutti questi pattern, quello che viene chiamato suing pattern o il carta modello e cucendolo insieme. Quindi io generalmente uso Marvelous quando so che devo andare a fare, oppure per approcciare o per impostare un vestito che ha un carta modello che è un po' complesso, cosa che potrei fare in ZBrush, però in ZBrush magari mi risulta un po' più difficile. In questo caso in realtà ho impostato qui in Marvelous l'abbozzo del modello semplicemente perché c'era questa linea che mi metteva un po' a disagio, pensare a come farla in ZBrush. Ero andato un po' in anzi e ho detto senti la faccio in Marvelous e via dicendo. Però questa qui è una cosa che fondamentalmente potevo fare benissimo in ZBrush a partire da zero. Questa è un'altra base che ho fatto, che forse qualcuno la riconosce, è la camicia che poi è stata totalmente modificata, che ho utilizzato per il modello di Bud Spencer. Anche qui a me serviva una veloce base in generalmente il grosso vantaggio che vedo in Marvelous è per quanto riguarda il discorso dei colletti, perché i colletti adesso vedremo che farli in ZBrush è un po' una rottura di scatole. Però alla base, ripeto, sta a voi decidere come andare a impostare il vestito. La maggior parte delle cose comunque sia l'imposto in ZBrush. Andiamo a vedere come l'imposto. Allora, alla base di tutto questo, purtroppo c'è il pisello di fuori, ma abbiate pazienza, è nudo, glielo smuttiamo, va. Generalmente quando strofinate da queste cose diventa più grande, in ZBrush diventa più piccolo. Non ci fate caso. Ecco, te pareva. Franchino arriva sempre quando si parla dei piselli, cioè è una cosa incredibile. Ho aspettato il momento giusto. Ok. Allora, fondamentalmente quando io devo creare un vestito, la prima cosa che mi chiedo da buon maniaco ossessivo compulsivo è andare a fare un po' di ricerche su quello che è il cartamodello. Perché a me può stare un vestito già avendo idea di come è fatto il cartamodello, cioè di come è tagliato all'inizio, mi dà un grosso boost in una fase avanzata della scultura del vestito. Un pantalone. Io faccio sempre l'esempio del pantalone perché fondamentalmente è una delle cose un po' più semplici a iniziare a mostrare. Ah, nella mia prima impostazione del vestito, tutti quelli che sono degli add-on, tipo delle saccocce che spuntano fuori, tipo che può essere per un giaccone, eccetera, li penso dopo. Quindi, se io ho una mesh, e devo fare un primo abbozzo di forma, fondamentalmente inizio come fanno tutti i bambini speciali, con un semplice extract. Adesso qui voglio dare un semplice polygroup, un unico polygroup a questo tizio per evitare che poi quando faccio l'extract mi porto dietro i polygroup e mi fa un leggero effetto di smoothing. E faccio un extract, generalmente, a me piace utilizzare una thickness a zero. I vestiti cerco sempre di scolpirli in single side, ma su questo ci torno dopo. Vado a fare un extract senza smoothness, magari. Accetto. Ok. Vediamo un po'. Allora, dovete stare attenti che ogni tanto in ZBrush quando fate un extract a zero, comunque sia, lui vi mette lo spessore. Quindi controllate sempre che non si veda in double. Perché se ve lo fa, avete due mesh che sono praticamente sovrapposte e dopo andare a cancellare la parte interna un po' una rottura di scatole. Allora, con questo, fondamentalmente questa è la mia base, ma perché faccio un extract? Perché so che non devo stare a perdere tempo. Adesso ho fatto un attimo cancello quest'altro mesh, perché questa è una mesh che ho comprato da 3D Scans Store e ha diverse pose, quindi non mi serve questa, non mi serve questa, quindi vado col solo modello, ok, e l'extract. Allora, l'ho fatto un po' più alto, nel senso noi dovevamo fare i pantaloni anni 80 e un po' più basso, perché fondamentalmente lo faccio sempre un po' più grande, perché questa base di extract, ok, adesso l'ho inflatto un pochino giusto per farla venire un po' più fuori. Comincio a tagliarla con uno strumento che ZBrush mi dà a disposizione, che è lo Slice Curve Brush. Prima di fare questo voglio smuttare un po' la parte del pistolino, perché qui c'è una cosa che non mi piace, smutto anche qui. E prima di cominciare a fare tutti i tagli gli do una smuttata veloce a tutto, gli do un po' più di forma come se non avesse delle forme anatomiche, perché di base un vestito segue le forme anatomiche, ma non ha le forme anatomiche, e comincio a fare uno ZRiMesher a più bassa risoluzione. Io cerco sempre di andare con delle risoluzioni basse, perché voglio una distribuzione poligonale tipo questa. Allora, qui ha fatto un po' di schifezze, questa è una cosa che non voglio assolutamente, ma ci posso tornare dopo. Adesso diciamo che ci riprovo un attimo, se no premo Alt, no, ok, bello, mi piace. E gli do una suddivisa, giusto una perché voglio una mesh più smooth e cancello i livelli di suddivisione più bassi. Adesso mi comincio a creare il carta modello da questo, quindi con lo Slice vado a tagliare qua su e vado a tagliare qua sotto. Lo Slice non funziona in simmetria. Io so di default che se faccio un mirror and weld su questo oggetto, questa parte destra del modello viene duplicata dall'altra parte. Quindi in questo modo, senza la prospettiva, posso andare a fare dettagli sul mio vestito. Quindi posso fare un delete. Per un pantalone so, adesso lo creo dritto, che qui generalmente se andassimo a vedere un carta modello dei jeans, c'è la fascia, il passante su cui dopo passa la cinta. Quindi questa è una patch a sé. Poi, rendo invisibile questo e cerco di fare un taglio che segua la forma della gamba. Quindi una cosa del genere. L'ultima cosa che voglio fare per un pantalone è tagliare, a seconda del tipo di pantalone posso avere dei tasconi o delle taschine, ma voglio tagliare la patch della tasca. Dopodiché vado a fare un mirror and weld e qui vado a fare con l'opzione questo certo coso che viene fuori che mi dà un fastidio. Facciamo così. Andiamocelo alle palle, letteralmente. Ok? Forse questa qui deve essere un pelino più alta. O addirittura tutta questa parte noi facciamo i pantaloni tipo vecchio, quindi facciamo un po' da giovane. No, anche se adesso in verità i giovani vanno con quelli un po' a vita alta. Quindi lasciamo il loccoci, dai. Ok? Vado a fare uno Z-Rimesher e questo, secondo me, la regola, cioè la funzione d'oro è lo Z-Rimesher con l'opzione non freeze group, but keep groups. Keep groups, allora, lo smooth groups generalmente se lo tenete troppo alto vi tende a fare lo smooth groups una cosa molto simile a un polish by feature. Quindi generalmente io preferisco abbassarlo. In realtà prima di fare questa cosa avrei dovuto modificare un po' la forma dei miei pantaloni, perché diciamo che non voglio fare dei pantaloni che siano slim fit, quindi qualcosa di un po' più grossolano. Quindi ancora prima di fare tutti questi tagli, quindi rimetto tutto come se fosse un unico gruppo e poi rifarò i tagli. Adesso gli do una forma, adesso vado molto veloce, quindi come dicono gli inglesi, bear with me, o abbiate pazienza, o orsate con me, sta una battuta alla franchino. Quindi do una forma che sembri un po' di più un pantalone. Questo potrebbe essere un pantalone di quelli grossi, un bel ginsone tipo anni 80, no, anni 90 che anni 80, dai poliziottoni. E da qui ricomincio a fare i miei tagli. Ma semplicemente lo faccio perché adesso magari ho delle linee che seguono meglio. Ok, quindi facciamo una cosa del genere, così, e qui sempre qui davanti prendo e taglio le tasche. Ci sono già i tagli, ma a me non interessa, perché comunque sia lo ziri mesher seguirà la forma dei polygroups e la forma delle cose. Qui c'è un qualche cosa di brutto, perché il taglio quando ho smuttato ha creato dei casini, ma non so se conoscete, la mia opzione preferita. Io posso smuttare qualsiasi linea, se vado a fare un deformation mirror, no mirror and weld, scusate, polish by feature. Il polish by feature cerca di fare, dopo ci ritorno, fa un polishing della mesh, ma mantenendo quelle che sono le feature hard. Cioè le feature sono bordi aperti, polygroups e edge decrease. Quindi in questo modo è una tecnica che si utilizza tantissimo quando dovete fare hard surface, perché se vi gestite hard surface con i polygroup e bordi aperti, potete effettivamente fare delle linee smooth, facciamo proprio un esempio stupido, così, delle linee smooth, quindi delle linee che sono tendenzialmente dritte, con delle superfici pulite, ma che hanno dei bordi molto netti. Quindi il polish by feature si può utilizzare in due modi diversi. Se lo uso col pallino chiuso, cioè col pallino pieno, ha diciamo un effetto un po' più blando, quindi sembra meno metallico, però mi permette di raddrizzare le linee. Fatto questo faccio uno ziri mesher con l'opzione keep groups. Lo smooth groups lo tengo basso perché se lo tengo alto lui tende a farmi la stessa cosa che mi fa quando fa un po' di spy feature. Quindi mi tende smuttare troppo le transizioni e questo potrebbe causare che laddove qui magari ho una transizione netta me la rende un po' più morbida. Adesso il keep groups ha delle limitazioni nel senso non gli piacciono gli angoli troppo acuti. Qui potrebbero esserci gli artefatti, qua siccome la mesh fa un po' schifo potrebbe non vedere bene la linea e qui pure potrebbe dare dei problemi. Quindi velocemente cerco a mano di renderla un po' più dritta. Dopodiché lancio lo ziri mesher e vediamo quello che succede. Ok, ha fatto un bel lavoro, ha fatto un bel lavoro, qui fa un po' cagare, però di base questa cosa qui a me non è che importa molto. Se proprio il mio disturbo ossessivo compulsivo non gli piace questa cosa posso provare a rifare uno ziri mesher e vedere se ZBrush me la mette a posto. Ma questa a livello di mesh da scolpire, al di là di questo piccolo cosettino qui, è assolutamente onesta come cosa, come mesh da scolpire. Questa cosa sarà da mettere a posto, ma anche se io comincio a suddividere e qui mi fa questa schifezza, posso prendere questo, io lo so perché lo so, posso prendere quest'area e fargli un semplice police by feature per renderle di nuovo rotondo. Quindi su questo ci torno dopo. Adesso torno indietro. Ultima cosa, ovviamente devo aprire un buco qui, perché è per un pantalone e devo dividere queste due patch, ma semplicemente con due poli diversi. Adesso qua può sembrare un po' complicata, barra che tende a confondervi. Primo disclaimer, se lo dovessi fare per lavoro, quello che farei è lanciare il Gozeta. Adesso il Gozeta è impostato su Softimage perché ultimamente uso Blender, ma prima di tutto non voglio cominciare una discussione su quale software sia migliore. Quindi siccome Softimage è un software morto, non può dare proprio adito a discussioni e poi siccome lo uso da un po' più di tempo, so come funziona e per una live lo reputo più reliable di Blender per far vedere delle cose. Adesso non so se si blocca perché, ok, massimizziamo. Se dovessi farlo per lavoro, questi passaggi qui li farei su un software di modellazione poligonale, perché in particolare che cosa voglio fare? Voglio aprire qui un bordo, quindi farei una cosa del genere. Un leggero bevel, così. Poi mi cancello questa parte qui e questa qui. Forse no. Questi qui in realtà facciamo che finisce più qua, ok? E questo qui prenderei e farei una cosa del genere. No, in realtà è quello che va sotto che deve essere perché, ok, così. Una cosa così. Perché qui è aperto, quindi qualora dovessi scolpire una cosa che c'è un'apertura, posso anche scolpirla, però mi piace avere questa apertura. Quindi fatto questo, semplicemente premo il gozeta e lo riporto in ZBrush. Ovviamente sono un pirla perché ho creato degli hang on, ma posso tranquillamente andare a fare la mia selezione di hang on, probabilmente stanno qua perché ok? Quindi guardiamo, mi sono lasciato un punto dietro, ma qui lo prendo e ok, e lo rimando col gozeta in ZBrush. Bom, fatto. In realtà qua adesso torno indietro perché se dovessi farlo in ZBrush so come farlo, è un po' più macchinoso. Devo prendere quest'area qui perché ZBrush posso utilizzare lo Zmodeler e con lo Zmodeler opero solo su una mesh, su una parte di mesh visibile e faccio un bevel e apro. Dopodiché cancello questo, quindi prendo qui e faccio un'opzione Delete Polygroup Island, levo questo. Guardo in Double Mode per assicurarmi che dietro non faccia dei casini. Dopodiché qui devo andare a, oggi l'ho ripetuto perché questa cosa può sembrare un po' macchinosa, senza la simmetria tengo smascherata solo questa parte qui e faccio un'estrusione, l'estrusione la vuole con tutta la mesh visibile. devo smascherare anche questo punto e questo punto, quindi facciamo una selezione, così, una cosa del genere e lo estrudo e faccio una cosa del genere. E poi qui probabilmente andrei a collassare alcuni punti, però vado a fare una cosa così. In realtà dovevo farlo dall'altra parte però adesso capite un po' il discorso. fatto questo, vado qui, seleziono questa parte, cioè questo Edge Ring e posso fare un Autogroups, ok? Perché voglio prendere queste due aree, fare un unico gruppo e dietro faccio la stessa cosa, ma in realtà posso anche prendere solo quest'area e raggruppare il tutto. E questo adesso è il mio setup per i pantaloni. Quindi fondamentalmente in due secondi mi sono creato un pantalone che ha già tutte le patch che poi mi permetteranno di fare gli effetti di cucitura. E, cosa non da poco, se io vado qui su Zplugin e vado su il mio UV Master, posso fare un unwrap con l'opzione Polygroups. Lavoriamo su un clone e così posso fare un po' più di cose. Zplugin, unwrap, senza la simmetria. No, però pure la simmetria, tanto non è simmetrico quindi non dovrebbe fare una ceppa. Facciamo un unwrap. Zplugin, flatten. Ok? E ho già le mie patch pronte per essere uviate. Posso eventualmente anche cambiare le UV e renderle tutte dritte. O anche qui, se dovessi farlo sul lavoro, questo layout UV me lo passerei su un programma per fare le UV e le raddrizzerei precisamente su un programma per fare le UV. Però c'ho già una prima stesura delle UV basato sulle patch che io ho creato. Quindi posso fare un unflatten, copio UVs, ritorno qui, faccio un paste UVs e ce l'ho. E quindi questo è il mio setup. Adesso sto materiale del cacchio cambiamo. Mettiamo il mio materiale preferito che piace tanto all'amico Valerio, il rosa, ma questo si vede benissimo. E quindi questa è la base per il mio vestito. Stessa cosa posso fare per qualsiasi altra cosa, camice, giubbotti. Proviamo a creare qualcosa di un po' più complesso giusto per far vedere la logica. In questo caso il colletto me lo faccio fuori. Semplicemente c'è un modo per fare i colletti in Zbrush ma non è così veloce. Però vabbè vi faccio vedere. Magari, non so se nel frattempo ci avete domande, fate pure. Allora diciamo che vogliamo creare un giaccone da biker. Quindi quello che faccio comincia a mascherarmi il tutto. Sembra macchinoso ma secondo me questo approccio di cominciare a fettare la roba e tagliare la roba, a mio avviso è la cosa più veloce che c'ho per ottenere una mesh scolpibile. Quindi non deve essere una topologia perfetta, però è una topologia che c'è il flow giusto grosso modo come mi serve. Mi permette di fare delle UV, cioè già una mappatura UV, avere la possibilità di mascherare i diversi gruppi e è veloce. Perché? Fondamentalmente io posso estrarre, quindi extract, accept, andiamo in solo mode. Adesso qui vado a fare un inflate e poi vado a fare un polish totale di tutta la mesh, voglio proprio smooth. E anche qui prima di cominciare a fare tutte le operazioni di taglio voglio andare a fare uno ziri mesher. Ma semplicemente perché voglio andare a levarmi tutti questi dettagli anatomici. Io lo ziri mesher lo richiamo di continuo, nel senso non è che una volta che l'ho fatto uno, magari dico ok. Se vedo che ci sono delle brutture che devo andare a mettere a posto, adesso qui per fare il setup. Io spesso e volentieri utilizzo il move con il back face mask on, se devo dare spessore a qualcosa. Perché il back face mask mi muove solo le parti nella direzione in cui tiro. Quindi se vado di qua muove questo, se vado di qua muove questo. Quindi posso dare spessore a questa manica muovendo solo col move dalla parte che devo spessorare. Quindi lo trovo la cosa più veloce, anziché mascherare e magari andare in trasposto e dare spessore. Ok, quindi fatto questo. Adesso qui in questo caso voglio fare un delete by symmetry. Perché? E guardiamolo in double. Perché? Perché fondamentalmente mi riesce più semplice fare i tagli perché qui adesso devo aprire anche una cosa, devo fare un'apertura qui per il davanti perché il giaccone si chiude ma fondamentalmente lo voglio fare che è un po' aperto all'inizio. Quindi sempre senza la prospettiva cominciamo a utilizzare lo slice, guardiamo in polyframe e levo la polyline perché prima di tutto faccio un mirror and weld e suddivido. Lavoriamo su una mesh un po' più suddivisa. Quindi cancello il livello più basso perché lo slice funziona solo con i livelli di suddivisione più alti e qui cominciamo a fare questo taglio magari un pelino di meno, quindi un po' più stretto così. Ok, non deve essere perfetto perché poi basta che muovo i punti, quindi delete hidden. Qui taglio qua. Ok, poi mi prendo questa parte qui. Qua c'è sempre una patch davanti e una dietro. Nel caso è un giubbotto da biker però qui c'è un setup un po' particolare perché qui ci sono le alette e questa sarà una parte che creerà problemi in zirimesher perché qui c'è un angolo acuto e allo zirimesher non gli piacciono gli angoli acuti. A seconda del giubbotto da biker potete avere anche una patch qui. Per le maniche io mi riferisco, siccome ho fatto un po' di ricerca bibliografica per capire come cazzo era fatto sto giubbetto qui, che è quello indossato da brando nel selvaggio, allora cerco di replicare un qualcosa di simile. Quindi vedo che qui le maniche hanno una patch frontale e una posteriore e la patch posteriore è suddivisa ulteriormente. Quindi cerchiamo di farlo complesso ma giusto per far vedere come impostare anche qualcosa che non è così, cioè che c'ha due taglie e bon. Quindi qua taglio e qua dietro e mi assicuro magari un attimo di far sì, va bene, e qui taglio ulteriormente. Magari facciamolo un po' più carino, il taglio dritto e qui devo tagliare questa parte perché lo voglio fare aperto. Quindi così, così che, ma sì va bene uguale. No, facciamo così. Guardo, metto questo solo visibile e faccio un taglio un pelino più dritto, cioè che parte un po' angolato così segue un po' la curvatura e poi finisce dritto perché sennò fa schifo. Ok, facciamo delete hidden e questa parte qui e questa parte qui le rendo solo queste visibili e facciamo sotto un bel taglio dritto perché sennò fa schifo. Ok, e forse anche qui dovrei delete hidden e anche qui, qua non avevo tagliato, tagliamo la fine della manica perché di base ci piace un po' più così. Allora, se fosse una camicia qui farei un taglio ulteriore perché la camicia qui, qua, praticamente ha la manica e poi ha la parte in cui c'è l'attaccatura dei bottoni. Generalmente è una cosa diversa. Un giubbotto da biker no perché in teoria qua o qua, adesso non mi ricordo, c'ha una cerniera, quindi è una cosa un po' diversa. Quindi facciamo un delete hidden e facciamo un mirror and weld. Ok, e con questo, siccome qua c'è un punto angolare che non mi piace, io posso anche muovere, adesso qui la mesh siccome è tagliata fa un po'... ah no, c'ho pure il back face mask, quindi torno un attimo indietro. Ok, però fatto questo posso provare a fare un polish by feature. Il polish by feature adesso non so se lo notate, ma mi ammorbidisce un po' tutte le linee, quindi mi rende tutte le linee un po' più pulite. Adesso qua leviamo questa cosa del bicipite perché questo non deve avere delle forme anatomiche. E anche qui, adesso qui potrebbero crearsi dei problemi su quest'area. E se si creano dei problemi la fixo, trovo un modo per fixarla. Però vado qui e vado a fare uno ziri mesher, sempre con l'opzione keep groups. E lo smooth groups non lo metto proprio a zero perché forse se lo metto a zero qui sugli angoli fa veramente delle schifezze. Però un pelino più di zero. Forse questo qui doveva arrivare un po' più qua sotto. Però proviamo un attimo. Ok, ha lavorato benissimo. Mi piace come è venuto. Cioè nel senso, qua c'è un po' di stretching, ma niente che non possa essere fixato. Siccome io sono un pelino stronzetto, a me piace. Più è basso di numero di polioni, più sono contento. Quindi quando vedo che questo va bene, dico ma fammi un po' abbassare adesso lo smooth group e voglio provare con una conta poligonale più bassa. Perché? Perché più abbassate la conta, più cresce il rischio di avere artefatti. Però provare. E fondamentalmente ha funzionato. Cioè questo adesso, ecco, lo smooth group crea questo. Lo smooth group vi crea sempre dei loop che corrono intorno qua e non vi crea il loop qui e qui. Nel senso che qua magari vorrei una topologia un po' diversa e se fosse per lavoro me la farei all'esterno. Allora, per quanto riguarda il colletto, i colletti sono sempre una rottura di scatole. Cioè non ci sono santi che tengano. In ZBrush la cosa, avete due possibilità. Vi date spessore e estrudete. Perché purtroppo ZBrush non ha la capacità di estrudere gli edge. Quindi io non posso prendere questo edge e tirarlo fuori. La cosa più veloce che mi viene in mente che si possa fare è prendere questa parte qui, estrudere, non delete, ma estrude, tirare fuori e con control duplicarla. Dopodiché prendo questo. Facciamo un attimo uno split. Lavoriamo solo sul colletto. Allora, come funziona? Guardiamo un attimo la situazione. Un colletto di base. Se questa parte qui ha le normali che guardano, ho zoom quindi posso annotare tranquillamente, quindi annotate. Allora, se il mio giubbetto ha le normali che guardano fuori, siccome il colletto ruota, le normali del colletto vanno dentro. E quindi questa è la prima cosa che devo fare è prendere il mio colletto e andare a fare un flip, quindi metterlo dall'altra parte. Lo guardo in double perché sennò non capisco una minchia. Dopodiché qui posso magari spessorarlo e lavorare sul colletto oppure tirare un po' di punti. Ma no, ma sì, ma no. Ma sì o no? Sì o no? Sì, dai. Facciamo extrude or polygons. Semplicemente dovrebbe essere un po' più lungo, però adesso giusto per la demo. Quindi qua estrudiamo questa parte qui. Ok. E qua, purtroppo, vediamo un po' se riesco a selezionare solo questa gering, magari. Ok. Mi prende solo questo, quindi questo posso raggrupparlo come un unico pezzo e facciamo extrude polygruppale. Non all, ma polygruppale. Ok, così. Perché vado a creare il setup per il colletto. Niente di trascendentale, ma mi serve per avere la topologia. Ok, move brush. Ok, perfetto. Adesso posso andare a prendermi solo la parte interna. Guardiamo, arriviamo il double. Ok. Quindi solo questa parte. E per prendere solo questa parte, qui dovrebbe essere fixata, ma vabbè, per ora va bene. La cosa che penso funzioni meglio per andare a isolare questa parte è fare un group, polygroups group by normal. Perché raggruppandole con le normali, sono sicuro che questa parte interna sarà raggruppata come un unico gruppo. Posso fare un delete hidden, posso prendere questo, e qui con lo zmodeler posso fare un collapse degli edge, quindi collasso questo edge su questo e questo su questo, e magari anche questo su questo. Qui c'è una topologia di merda, ma se cancello questo edge, qui c'è un quadrato, un triangolo, e qui magari posso aggiungere un edge loop, insert, e qui c'è, se cancello poi questo, il delete, niente, delete, niente, perché fai delete. Vabbè, questo non lo fa deletare perché zibrasce ogni tanto quando deve deletare gli edge fa un po' lo stronzetto, quindi per ora lo lascio così. Ok. Quindi fatto questo, adesso fa schifo, però me lo rimodellerei, però la logica, è giusto per vedere la logica, andrei a fare un merge down, quindi merge down con quello che era il giaccone, quindi questo, quindi merge down, OSOK, e poi perché zibrasce lento? Perché l'unico, l'unico modo per cui avete di fare un bridging è fare bridge, bridge, poi prendervi uno, uno e fare bridging. è una cosa che non si finisce più, quindi per la sanità mentale di tutti, reputo che sia molto meglio. Adesso qui avevo creato un polygroup, quindi facciamo che ricreo questo qui come polygroup, questo polygroup e a questi due gli do lo stesso polygroup come dovrebbe essere. ok. Quindi questa cosa qui la farei in un altro software, prendendo, estrudendo gli edge e facendo delle estrusioni, cosa che si fa relativamente semplice, facciamolo un attimo. Anche se bisogna perdere un po' di tempo poi per fare il reshaping, quindi prendiamo qui, ho mandato in soft image, quindi mi prenderei magari da questo bordo qui, una cosa del genere. Adesso siccome è un po' che uso blender non mi ricordo più i shortcut di soft image, quindi abbiate un attimo pazienza, questo lo tiro su, questo qui lo allargo rispetto a questo midpoint, ok, e mi faccio un po' di reshaping di questa forma. Potrei anche andare proprio extreme, cioè nel senso cominciare proprio largo largo e qua muoviamo magari da questa parte e magari allunghiamo così. I colletti bisogna sempre perderci un po' di tempo e magari lo tiriamo un po' su. Ok, sì, quindi facciamo così. Ma penso che possa bastare, perché l'importante, magari mettiamo un altro edge loop, è avere, no, in realtà qua devo fare, se è una giacca da biker, devo avere queste due parti. L'unica rottura di palle in questo programma è che non c'è una opzione decente per quanto riguarda X scale global center of gravity, ok, per la simmetria. Però qui dovrei avere una topologia del genere che mi crea una punta e la stessa cosa dovrei averla da qui a qui, cioè nel senso devono essere staccate queste due. Adesso non vado a fare una cosa ultra precisa, a me serve semplicemente avere una descrizione geometrica, cioè delle varie parti in grosso modo giusta. Così, diciamo così. Ok, penso che possa andare bene, l'unica cosa, visto che qui posso farlo, vado a fare un merge di questo, di questo, e diamogli un po' uno sviluppo un po' più... qua potrei anche lasciare i triangoli, ma adesso facciamo quadrati. In realtà ci perderei più tempo. Sì, vabbè, questo loop entra qui dentro, quindi va bene, perché il colletto fa questa sorta di giro, quindi voglio che ci sia questa topologia che rientra. E così a questo punto va bene, perché a me c'è il grosso dei movimenti, posso tranquillamente farlo in ZBrush, però è questa operazione di istrusione che in ZBrush non viene bene. Quindi prenderei... Adesso qui ho fatto un casino, cioè si è aperto un pop-up, cancel, gozzi, e lo rimando in ZBrush. Perfetto. Quindi adesso posso prendere questa mesh, qui vado a dare i polygroup come servono, quindi... Questo qui sarà un gruppo e quest'altro sarà un gruppo. E qui adesso posso cominciare, ok, maschero tutto tranne quest'ultimo bordo, e qui col move me lo vado a mettere dove lo voglio. Quindi qua sarà una cosa un po' più così, qua un po' più così, così, poi prendo questo, e qui posso fare uno shrink della visibilità, ma no, ma sti cazzi, facciamo un po' a manella. Ok, maschero tutto, anzi facciamo così, maschero questo, e poi inverto la maschera che fanno prima. E piano piano, con la dote più grande di ogni, diciamo, operatore 3D, che è la pazienza, me lo metto a posto. Allora, in questa... Sì, vabbè, qui forse c'è poca topologia, quindi quando vado di smooth fa un po' di casino, quindi cerco di evitare lo smooth, e per lo smooth mi cerco di affidare al polish by feature. Allora, il polish by feature tende a stondare tutto, quindi se vuoi avere un polish by feature che non mi tocca questo angolo, questo angolo me lo maschero. A questo punto, bam, il polish by feature mi crea questa bella transizione, e adesso a questo punto, qui, posso invertire, questo lo ritiriamo fuori, qui posso anche aggiungere un edge loop, non bridge, ma insert, perché qua voglio ottenere di più questa shape del colletto, perché poi il colletto può andare su, può andare giù, e possiamo fare tante belle cose. quel colletto. Quindi questo è un setup, direi più che decente, per avere una giacca. Se poi volessi fare proprio quella giacca lì, probabilmente, senza la simmetria attiva, qui c'è una cerniera, e fondamentalmente questa è un'altra patch, quindi qui, ops, andiamo a fare un autogroups, così che questa parte qui, in realtà questa sarebbe un po' più angolata, e questo forse è il motivo per cui l'ho fatto in Marvelous, però se avessi più tempo, lo farei già tutto in asimmetria, e lo affronterei, e potrei fare una cosa che comunque sia, funziona. Ok, quindi questo è generalmente l'approccio che io uso per creare le mie basi dei vestiti. Non so se ci sono domande finora, almeno intanto mi riposo e mi riidrato, quindi siete totalmente liberi di riattivare il microfono per qualsiasi tipo di domanda. No, niente, siete tutti. Per ora tutto chiaro. Ok, vabbè, bello il pistolino che viene fuori. Questa tecnica potete utilizzarla per fare virtualmente tutto, però per fare molte cose. E avete già, cioè, sempre questo discorso che adesso qui, fondamentalmente quando si suddivide si tende a perdere un po' di volume, quindi prima di suddividere vado a fare un criss dei bordi, solo dei bordi. Io so che queste parti qua, no, questa no perché c'è una topologia che tiene, ma questa qui si stonderà. Quindi, no, neanche troppo, però ogni volta che suddivido, questo punto qui me lo vado a spostare un po'. Eh, sì, certo, magari con un move, con un move topologico, l'almeno facciamo prima, perché muove solo la parte vicina topologicamente. Ok, poi risuddivido. E questa adesso è già pronta per cominciare ad essere scolpita e rifinita. Qua in realtà sul modello fatto, il colletto lui ce l'aveva un po' tirato in su, quindi maschererei, cioè ce l'aveva proprio rivoltato all'insù, quindi magari mascheriamo questo e facciamo questo effetto qui. Semplicemente con un move, nel senso non c'è bisogno di fare chissà quali grosse cose. Quindi piano piano, con un move, me li tiro su. Allora, è il problema dello scolpire con le single side mesh. Penso che se avete mai scolpito una single side mesh, il problema più grosso fondamentalmente risiede nel fatto che questi cavoli di bordi non si smuttano. Potreste in teoria utilizzare lo smooth brush e cambiare questo minimum connected points, cosicché smutta pure i bordi, però succede che i bordi vi si restringono, quindi non è mai una cosa consigliabile. Io fondamentalmente non trovo grossi problemi nel fatto che non si smuttano i bordi. Perché? Perché, proprio perché so che esiste il polish by feature, che mi può andare a mettere a posto qualsiasi tipo di magagna che mi si forma all'interno e al livello del mio bordo. Perché? Perché, che cosa faccio? Se qui, diciamo che ho creato questo risvolto del colletto, stasera proprio i termini non vengono. Ok, ma qua voglio delle forme più smooth. Io generalmente sono un grande fan anche dell'opzione mask by feature, con l'opzione border solo attiva. Il mask by feature che fa, vi permette di fare, come il polish by feature vi fa fare un polishing sulla base delle feature, quindi sulla base dei bordi, crease ed edge, però quello è generale, però avete anche la possibilità di fare un polish solo sulla base dei gruppi e degli edge di crease, quindi potete fare un po' come volete. Il mask by feature vi permette di decidere voi cosa mascherare, e ce l'avete qui sotto l'opzione mask. Se io faccio un mask by feature dei soli bordi, con i soli bordi attivi, poi mi prendo questa parte, la più odiosa funzione dei zip rush è questa cosa che quando avete il select e fate ctrl, shift, click, tante volte vi isola il bordino, il edge ring, e non quello. Prendo e maschero tutto quello che non devo andare a mettere a posto, e semplicemente qui innanzitutto me lo posso andare un attimo a rimuovere a mano. Così sto lavorando principalmente solo sul bordo, ok? Quindi facciamo così, facciamo che c'è un bel collettone da vero biker cazzuto, che deve sedurre la barista, ok? Dopodiché vado qui e faccio un polish by feature e tutte le schifezze. Qua adesso ho una suddivisione un po' più alta, quindi posso anche farlo con il bordo aperto, con il pallino aperto. Il pallino aperto distrugge più le forme, tende a distruggere più le forme, ma fa un polishing molto più netto, con forme più pulite. E quindi adesso sto colletto fa un po' paura, perché in realtà dovrebbe essere un po' più così, però nel senso, ci avete l'idea di quello che potete fare con questa operazione. Ora qui sarebbe un po' più largo. E vedete che c'è, nel senso io quando scolpisco comunque mi creo questi tagli e poi li metto laddove penso che ci siano le cuciture. Su un giubbetto le cuciture non stanno qui, stanno, fanno le spallone. E da qui in genere può anche uscire il passante che poi va a connettersi qua. C'è un passante qui. Una cosa, altra cosa che mi piace utilizzare, stasera ve le dico tutte, quindi da domani tutti i segreti saranno svelati. Sapete che lo smooth ha diverse modalità di smoothing, quindi esistono diversi modi con cui voi potete controllare lo smoothing. Io ce l'ho qui per semplicità, si chiama questo parametro weighted smooth mode, che va da 0 a 9 e se voi ci andate sopra vi dice pure quello che fa. Il 6 corrisponde ai bordi dei gruppi e equivale a tutti gli effetti a fare un polish by feature sui gruppi. Quindi se io faccio così, sto facendo uno smoothing, facciamolo qui che si vede meglio, e vedete che lo smoothing fa sì che i bordi però vengono mantenuti netti. Quindi se io voglio avere un polishing che però mi mantiene questi bordi, posso farlo con l'opzione 6, attiva. E' molto comodo per fare a volte uno smoothing proprio mirato su alcuni punti. Ok, quindi questo adesso me lo duplico perché mi piace, però voglio fare una variante, quindi torno giù di suddivisione. Adesso lo roviniamo un po', sto colletto è brutto così, qua dietro magari dovrebbe essere un po' più dolce. Così, facciamo una piccola variante, quindi che faccio? Faccio, scendo di un livello di suddivisione e cancello, perché proviamone un po' tante. Così, prendo questo, questo e questo qui, e questo, allora no, questi due, unico gruppo, e qui dietro facciamo così, e qui dietro un altro gruppo. Ok, dopodiché rendo visibili solo questi due, perché voglio provare a fare un'altra cosa che mi piace tantissimo. Slice curve, questo sarà un'altra variante. Magari questo un po' più così. Ok, e proviamo a fare... Eh sì, dai, facciamo il bomberino. E qui adesso, vabbè, facciamo... Da quest'altra parte, perché guarda da questa parte a questa, e qui... Qua adesso andiamo molto extreme, quindi siccome ci sono tanti gruppi, lo Zerimesher potrebbe di fatto fare un po' di casino. Però, no, facciamolo solo fino a qui, dai. Ok, mirror and weld. Sto colletto lo farà impazzire, soprattutto sti angoli qui. Quindi se non funziona, facciamo che il colletto lo leviamo. Su un bomber non c'è sto collettone, quindi fuori dalle palle, e qui vado un po' a muovere questo. Ok, per rendere un po' più angolare. Facciamo uno Zerimesher. 1300, non so se... Eh, ha fatto un po' di tanti casini, quindi provo ad alzare un po'. E se continuo a farli, devo probabilmente fare anche un polish by feature. Sì. Per raddrizz... Ah no, un attimo. C'era il crease. Il crease lo manda un po' in palla, quindi facciamo un crease all, e adesso facciamo un altro polish by feature per rendere... Perché questo curva così? Vabbè, proviamo così, va. Zerimesher. Fatto proprio una merda. Vabbè, nessun problema, perché questi qua, a parte che questi gruppi gli dà lo stesso colore, me li metto, me li raddrizzo a mano, qui, 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 qui. Cerchiamo di fare delle linee dritte, qua adesso no, non è venuto bene, no. Probabilmente tornerò indietro, rifarò il taglio, però su una mesh più suddivisa, perché sì, qua ha fatto un po' di casini brutti. Quando fa questi casini brutti, probabilmente dovete fare i tagli, però ripeto, qua adesso stiamo andando proprio molto extreme, quindi via, torno indietro. Ok, quindi ripartiamo. Anco, quando dici extreme, alludi al gruppo? Al gruppo musicale, esatto. Ah, perfetto, grazie. Facciamolo su una mesh un po' più suddivisa. Ok. Su una mesh un po' più suddivisa, perché forse... A volte lui ci prova, ma no, questo deve essere un unico gruppo, ma non ci riesce, nel senso che fa quello che può. Però in teoria potrei pure provare a fare uno zilimesher. Vediamo se qua da dei problemi e dei artefatti, perché... Qua al limite potrei anche farli a mano, nel senso mi prendo sta parte e questi due faccio dei polygroup diversi e via dicendo, quindi... Però adesso dai, proviamo un attimo a vedere se col metodo semiautomatico lo fa comunque bene. Quindi prendiamo, qua ne facciamo uno, due, tre, quattro. Ok. Poi prendo questa parte, questa parte e qui facciamo uno, due, tre. Questo tipo qua e poi ne facciamo un altro qui, dai, senza andare troppo. Ok. Mirror and weld. Di nuovo. E proviamo di nuovo a fast zilimesher. Speriamo. Fatto proprio cagare. Fatto cagare, però con riserva. Allora, ripeto, lo zilimesher a volte quando c'è tante intersezioni di gruppi i miracoli non li fa. Quindi qua è brutto, però qua proviamo magari a raddrizzare e quando non è così magari faccio uno zilimesher senza sti cosi, li faccio a mano come dicevo prima. Però ogni tanto mi piace rischiare, quindi proviamo un attimo e magari aumentiamo anche un po' il polishing. Ok, adesso ho fatto meglio. Perché qui, allora quando vi fa queste cose, allora qui c'è un angolo molto netto, quindi qua a lui gli dà un sacco di problemi e probabilmente può giovare, aumentare un po' la risoluzione. Perché lui ci prova, ma se non ci riesce, cioè dovete aiutarlo e dargli maggiori polioni. Qua fa un po' cagare, però alla fine dai, nel senso ci si può sopravvivere. In realtà qua un taglio del genere è ovvio che gli dà fastidio perché qui c'è un angolo, ripeto, quando ci sono gli angoli acuti lui va in pappa. Però poi alla fine questa è una parte che se messa in posa non sarà pure un po' nascosta, quindi potrei dire che mi può andar bene. Qua adesso non so perché me l'ha fatti così mezzi storti. Ok. E raddrizziamo. E di base, dai, non è così male. Questo quando suddividerà, in realtà poi qua effettivamente dovrebbe essere cucito in modo diverso perché è una cosa del genere anche su un vestito. Però l'idea è che questo qui, adesso posso suddividerlo, l'idea del mask by feature, non con l'opzione groups magari. Ok. Senza questo pezzo qui. È in automatico fatto, nel senso, c'ho già le patch per poter creare questi effetti. e il mask by feature utilizzatelo, cioè il mask by feature, utilizzatelo per fare queste cose perché fondamentalmente vi permette di differenziare tra diversi gruppi e di poter andare a fare questi effettini di compressione senza andare a interagire con quelle che sono, pure qua dovrebbe essere più gonfio, quelle che sono le cuciture. Quindi questo è l'effetto, un effetto buono per fare cuciture, ho fatto vedere al volo perché stavo aprendo qua e mi era venuto in mente anche questo come esempio dell'utilizzo, ecco, dell'opzione, ok, si era un attimo bloccata la penna, del come utilizzare i polygroup a vostro vantaggio per poter creare queste parti che poi potete, a cui potete fare un mask by feature che potete scolpire contro per dare degli effetti di rigonfiamento. Quindi questo è l'approccio. Quando poi si tratta di andare proprio a scolpire bisogna, adesso andiamo un po' meno sul tecnico, non so se finora ci sono domande, le cuciture, le cuciture le vediamo dopo. Ci sono domande finora? E allora adesso cominciamo a aprire questo, questo è il tipo di giubbetto fatto, quindi fondamentalmente serve sia per vedere i patch che per andare a fare uno studio dei fold. Parliamo un po' dei fold. Allora, quando si scolpiscono i fold, il segreto per scolpire i fold è la figa, la figa, non ti preoccupare che dopo arriva, non c'è nessun vero segreto, nel senso che i fold bisogna studiare come vengono generati e uno dice grazie al cazzo, però di base chi comunque ha fatto qualche workshop con me lo sa perché questo è un discorso che faccio sempre perché è quello che è il discorso che bisogna fare quando si parla di cloth. Adesso ho preso un paio di immagini ma in realtà non sono ben esplicative. Cioè, tutto è correlato alle forze che entrano in gioco nella creazione delle pieghe. Perché? Perché un vestito fondamentalmente è un qualche cosa, cioè un tessuto, è un materiale, parliamo di materiale, è un qualcosa, un oggetto che tra virgolette non ha una sua vera forma, nel senso non è un gas o un liquido che assume le forme, però è un qualche cosa che, viste le sue capacità fisiche, tende ad adattarsi alla forma sottostante perché è morbido e quindi tende a perdere forma e tende ad arricciarsi. Quando vuoi un vestito ovviamente le sue caratteristiche innanzitutto è come cucito, cioè nel senso la forma, cioè la forma tridimensionale per cui è pensato come, sì, vabbè, lo dico un'altra volta, nel senso, no, la forma che si pensa che voglia riempire, ecco, diciamo così, quindi il vestito si è fatto su misura, cioè la misura e via dicendo. Però quando voi indossate un vestito, cioè il vestito come si adagia a voi, cioè dipende un po' da tutte le forze che entrano in gioco, quindi è solo un discorso di forze e quando si parla di forze, cioè qual è la prima forza che entra in gioco nella creazione di una piega? Non è la fuga? Eh, come? Gravità. Eh, vabbè, ma tu lo sai, tu hai stato un mio workshop grazie al cazzo, è la gravità. Allora tutti noi viviamo in un ambiente che è caratterizzato dalla presenza di gravità, quindi la prima forza che agisce su tutti, quindi anche su noi stessi, ma su quello che indossiamo, è la gravità. Un vestito risente della forza di gravità e quindi tenderà a cadere. Ovviamente tenderà a cadere e tenderà a fermare la sua caduta in quelle zone in cui sotto, per il principio di azione e reazione di Newton, cioè nel senso se c'è qualche cosa che blocca l'effetto della forza, vuol dire che questo in termini fisici esercita una forza uguale e contraria e quindi questo si fermerà. Quindi il vestito non cade generalmente su un corpo laddove ci sono delle superfici che vanno perpendicolari o un poco angolate rispetto alla gravità. Un poco angolate, quanto devono essere angolate finché il vestito possa essere vincolato? O meno? dipende ovviamente dal coefficiente di attrito delle superfici, cioè nel senso un vestito vi scivola addosso se è molto non viscoso, tipo la seta. La seta tende a scivolare di più rispetto magari a una lana che anche se non una lana nel senso della cagna, ma un vestito di lana che magari si più pesante ma anche più attrito oppure un bel camiciotto di quelli da boscaiolo per cui rimane un po' più attaccato. La regola quindi generalmente la prima forza da tenere in considerazione è la gravità e come calza il vestito perché come calza il vestito determina anche se c'è un corpo all'interno di un vestito adesso a me mi piace un sacco disegnato sullo schermo è una cosa che mi fa impazzire c'è un corpo che riempie un vestito se il vestito è molto più grande del corpo questo sarà molto più libero di cadere ma se il vestito è stretto è come se il corpo lo tiene lo trattiene e non gli permette di creare dei fold e questa è la logica per cui un vestito attillato generalmente un vestito attillato le parti attillate non vedete mai fold di questo tipo che cadono vedete al limite fold che vanno così perché sono effetto di di stiramento ecco questi tipi di fold quindi folds di vestiti stretti sono più compressi orizzontali oltre a questi bisogna tenere in considerazione tutto il range di movimento nel senso se un vestito una maglietta fondamentalmente una t-shirt se voi la mettete piatta su un adesso cambio colore perché se no qua non si vede non so se questo è noioso però secondo me è la vera logica dei vestiti una maglietta è creata così nel senso se voi la mettete piatta sul letto o per terra la maglietta ha questa forma quindi viene da sé che quando avete le braccia piegate in questo senso voi state in qualche modo deformando la sua forma base quindi io so con quasi assoluta certezza che qualsiasi maglietta camicia voi mettete se avete le braccia basse avrà delle pieghe che vanno così e da dietro vedrete delle stesse pieghe che vanno dalle spalle al sì dalle spalle sì dalla parte dei deltoidi verso i verso l'ascella verso il gran rotondo adesso riapro il mio fold e vediamo qui questo è un esempio ok leviamo clear all drawings quindi questi sono gli effetti vedete siccome qui le braccia qua c'è le braccia concerte quindi però questa maglietta viene piegata e quindi si creano queste pieghe perché fondamentalmente qui c'è un effetto di compressione e quindi tutta questa forma tende a fare in questo modo allora qui ci sono delle pieghe verticali perché ovviamente subentra la gravità qui c'è un punto di hit perché le braccia fermano il vestito però fondamentalmente probabilmente il vestito viene fermato ma non viene fermato in modo che ci siano parti che rimangono su altrimenti si creerebbe una piega un po' più orizzontale perché il vestito arriva invece questo tenendo le braccia così probabilmente sta anche tirando un po' il vestito di dietro adesso poi copre su una reference proprio di merda vedete che siccome invece qui le braccia lui ce le ha così ma vanno in avanti qui il vestito viene stirato quindi fondamentalmente le pieghe sono sempre una descrizione delle forze che entrano in gioco e come deformano questo vestito quindi siccome qua va avanti tutte le pieghe vanno in realtà qua si stirano ma nel frattempo vanno in basso perché fondamentalmente c'è sempre questa gravità quindi il vestito tende a cadere quindi diciamo che da qui da qui a qui c'è stiramento da qui a qui comincia a scendere però c'è sempre questo movimento movimento e via dicendo pantaloni i pantaloni sono sempre un'area un po' tricchi perché a seconda dei pantaloni le pieghe sono diverse allora generalmente la regola per i pantaloni adesso questo è un po' estremo come pantaloni è che se avete il pacchetto grosso e qui sono stretti varranno più le pieghe di compressione qua adesso questo c'ha dei pantaloni che sono così ma da questi punti in poi generalmente si cominciano a vedere delle pieghe che scendono un po' più orizzontali varia ovviamente da pantalone a pantalone qui c'è un altro esempio e qui c'è un altro esempio però di base la regola è sempre questa che qui da qua a qui si cominciano a vedere degli effetti di gravità ci possono essere compressioni a seconda della posizione perché questo c'ha il ginocchio piegato e quindi qua c'è più piegata di compressione quando si arriva il ginocchio è sempre la parte un po' più un po' più drammatica perché qui comincia a cambiare qualcosa allora qui i pattern da lineari cominciano a diventare un po' più orizzontali questo pattern è il tipico pattern di una piega che viene cosiddetta da compressione cioè il vestito arriva quando c'è un accumulo di vestito il vestito qua c'è la gravità che spinge tenderà a formare queste pieghe che in realtà non sono delle pieghe così ma sono delle pieghe come immaginate sempre la regola delle Y cioè non immaginate in termini di linee ma di piani perché queste qua creano dei piani tra loro e vengono cosiddetti diamond shape allora qui che cosa succede fondamentalmente succede che qui arriva il vestito e qui ci sono delle forze che fanno cambiare un po' direzione alle pieghe quali saranno queste forze cioè che cosa succede qua che fa cambiare direzione alla piega perché questo me lo so chiesto per tanto tempo ma probabilmente il pantalone è un po' rigido sì però perché sempre indirettamente cioè nel senso che è che fa fermare sì certo penso le scarpe ok da sotto c'è una forza contraria che ti dà da sotto questo si ferma però perché qua qua c'è pure qualcos'altro che cambia ah sì sì l'angolazione della gamba proprio è l'angolazione cioè allora se noi guardiamo in realtà quello che fa cambiare perché uno dice vabbè perché si ferma l'effetto della gravità perché siccome la gamba di base cioè ah ok ma era un indovinello non capisci sì sì era un indovinello ah ma allora sei un furbacchione sei un furbacchione sì beh beh certo cavoli ok la gamba cambia cambia nel senso qui c'è c'è un il gastrocnemio e quindi cambia angolazione quindi fondamentalmente qua qua c'è un punto che fa da blocco per la forza di gravità e siccome qua la gamba va in questo modo là qui c'è libertà di flow ma qui a un certo punto si ferma quindi qua la piega cioè a un certo punto si deve si deve andare siccome immaginate che questa parte qui spinga tutta la massa del tessuto indietro quindi questa deve in qualche modo ricomplementarsi cambia questa cosa a seconda del tipo di tessuto e qua non a caso ho preso questa immagine questa qui e questa qui perché questi sono dei pantaloni diversi e vedete che qui è meno evidente la cosa però c'è sempre questa che è come se vedete che questa massa se lo tira indietro se le tira indietro le pieghe e se le tira indietro pure dall'altra parte cioè verso l'interno quindi qua vedete di qua su quest'altro qui se lo trovo è meno evidente perché a parte il fatto che la posizione c'è una posizione diversa quindi qua in realtà la piega va così perché qui manca ormai l'effetto di blocco della parte dietro e fondamentalmente il pantalone è un po' più largo se avete i pantaloni quelli un po' alla turca che sono proprio larghi larghi questo effetto non ce l'avete quasi per niente oppure avviene molto più in basso perché fondamentalmente avete tutta sta forma che è larga e quindi l'effetto arriva solo qui è solo dato dalla compressione adesso io non so questa non deve essere Anche il materiale che è un po' diverso rispetto a Sì beh sicuramente ma infatti il materiale questo è largo e c'è un materiale diverso il materiale determina siccome il materiale determina l'attrito e determina la resistenza del vestito ovviamente c'è anche il materiale certo se questo fosse pelle se questo fosse pelle probabilmente cioè nel senso potrebbe averci delle pieghe però la pelle tende sempre un po' a farsi cazzi sua rispetto alla gravità perché le pieghe seguono la gravità ma le pieghe sono sempre molto irregolari cioè si può vedere nel senso io ripeto non è che faccio perché l'ho scolpito ma siccome l'ho dovuto scolpire cioè nel senso le pieghe seguono un po' la regolarità però vanno sempre un po' per cazzi loro cioè siccome è un tessuto un po' più rigido risente un po' di più magari delle deformazioni del corpo sottostante poi Marlon Brando aveva pure un pacco abbastanza importante perché qua ci sono delle pieghe che proprio c'è pure una foto che lo dimostra e capisco perché ci aveva abbastanza successo con le donne quindi qua vedete che c'è una piega di stiramento molto interessante lui aveva un esercito di figli perché si va a tenere la barra con questo attrezzo lo ce credo allora l'unica quando è che non si creano pieghe? c'è solo una situazione in cui non si creano quando uno c'è il pisello piccolo quando c'è una gnocca non si creano pieghe perché davanti alla gnocca anche le pieghe adesso questa era l'immagine no avevo visto siccome andava su Pinterest ero in cerca di pieghe interessanti questa c'era le pieghe però le pieghe non si vedono però effettivamente tiene il braccio alzato e vedete quindi qua c'è uno stiramento e quindi fondamentalmente e qui siccome c'è generalmente sopra le spalle se voi avete le spalle in posizione rilassata non si creano pieghe perché il vestito scorre a meno che non avete un camicione che quindi da qui a qui c'è un esubero di veste però quando tirate su ovviamente si crea questa compressione quindi comincerò a vedere delle pieghe che vanno è come il discorso dei muscoli cioè immaginate che ci sia un vestito che siccome normalmente c'ha questa lunghezza se voi tirate su il braccio e quindi lo fate slidare questo per forza deve far così e quindi in visione tridimensionale questa cosa si traduce nella creazione di pieghe generalmente quando si fa un vestito e posso dimostrare che effettivamente di fronte alla gnocca non si creano pieghe perché ho fatto una estenuante ricerca bibliografica e non ne ho vista una di piega cioè io non le vedo poi se voi le vedete ma non ce n'ha forse qui ce n'è una ma una giusto così ok allora la logica è che quando io scolpisco un vestito comunque non vado mai a caso cerco sempre di grabbare una particolare reference e seguire quella reference e studiare quella reference qualora non è possibile ovviamente non avendo la possibilità di avere magari una visione a 360 gradi bisogna fare due cose la prima è cercare foto simili con vestiti simili se avete un vestito simile ve lo mettete vi fate una foto e la terza è studiare molto perché vi create la vostra bella libreria mentale con cui poi andare a complementare e andare a unire i puntini quindi adesso facciamo proprio un esempio veloce non so vi state annoiando? ma che? no guarda io ho una mano in tasca mentre guardo la tua lezione perché sei eccitantissimo ah sì? wow addirittura voglio un sacco di beni ah di beni allora ok adesso mi vado a prendere una reference perché non me ne va di fare le cose ad cazzum quindi prendo questa reference e me ne prendo un altro paio tipo queste ok poi abbiamo fatto uno pseudo giubbetto da biker quindi rifaccio questo giubbetto qui cioè non rifaccio allora quando si scolpisce i vestiti allora io quando pubblico le foto sono il risultato di giorni bestemmie giorni bestemmie ripensamenti giorni e bestemmie quindi nel senso io ho questa cosa come dicono gli inglesi dicono parlando di get into the zone e è vero cioè nel senso quando voi iniziate a scolpire cioè qualsiasi cosa da zero cioè non da zero ma ricominciate a scolpire qualcosa all'inizio c'è questa sorta un po' di sentirsi un po' intimiditi nello scolpire qualcosa e quindi anche quando riaffrontate le pieghe all'inizio ci andate piano uno non è proprio sicuro di quello che fa e quindi è normale in realtà qua devo fare un'altra patch su quello che avevo fatto però non mi importa prendo quello che avevo realizzato prima che è questo ok fa un po' cagare questo colletto però va bene quindi l'idea è adesso non ho assolutamente la pretesa che sia super perfetto però ci proviamo qua è chiuso ma in realtà qui è aperto quindi lo farò semi aperto prima di tutto lo vado a mettere in posa quindi fondamentalmente già rompo la simmetria perché di base la simmetria qua non esiste non è di casa quindi prendiamo mettiamo così è molto usiamo l'action line che è più bella no è più bella però mi ci trovo un po' meglio per alcune cose ok quindi qua e qui ruoto all'inizio io la sfascio proprio la mesh perché di base sto solo attento a controllare un po' che magari la muovo senza andare a distruggere troppo i miei i miei i miei bordi dei polygroup mettiamolo un po' più così mettiamolo così questo ecco ma una domanda te la posso fare? certo devi allora quando vai a fare i vestiti su una scultura che è in posa lo estrai quando è in posa oppure dipende ottima domanda dipende no allora il vestito se il vestito allora se il vestito non è complesso una camicia ecc se non è complesso non si vede molto lo faccio in posa se il vestito è complesso siccome una grossa parte per me una grossa parte dello scolpire sti soggetti è lo studio dei vari elementi perché nel senso io veramente ci perdo un sacco di tempo non so l'hai visto ti faccio vedere queste immagini qua poi in realtà non c'è voluto dove cazzo non la sta vabbè apro qua vado sul folder perché l'ho chiuso quindi live queste immagini qua ho cercato proprio il giaccone di scena non di scena ma la riproduzione del giaccone che aveva utilizzato lui perché per me la grossa parte nel senso io so almeno per come lavoro io che se già mi imposto il vestito con questi elementi dopo faccio meno fatica perché questi qua ce li voglio avere descritti in geometria è una tara mia però mi viene meglio farli e mi viene meglio gestirli in questo modo perché dopo a livello il discorso delle cuciture o delle parti che vanno una sopra l'altra mi vengono meglio cioè riesco a farli meglio però dipende ognuno c'è il suo approccio c'è gente che so che scolpisce io potrei anche di fatto potrei fare anche un'altra cosa perché potrei scolpirmi il vestito in posa e crearmi una mesh che ha la geometria giusta e poi utilizzare il plugin Zivrap per chi non lo conoscesse è un plugin che permette di prendere una mesh e adattarla a un'altra quindi se ho delle forme che sono simili potrei anche fare questo approccio io lo Zivrap lo uso per fare i guanti cioè il guanto me lo modello in posizione neutra non lo faccio con l'extract perché in posizione neutra ho già le UV giuste e poi lo Vrappo alla mano messa in posa perché adesso non faccio vedere Vrap perché non non ho tempo puntualizzo che lo Zivrap viene usato anche massicciamente in produzione quando si adattano delle teste di modelli generici sulle scansioni degli attori di solito nelle aziende c'hai la tua mesh dell'uomo generico già fatta si prende lo Zivrap si usa sia in Zebrash sia nella versione stand alone sì ma io pure adesso ormai tutte fammi un attimo salvare perché non vorrei che va test uno io oramai tutti i volti che faccio li faccio con l'uso di Zivrap cioè nel senso perché parto dalle Dynamesh e poi con lo Zivrap ci adatto una mesh ma semplicemente perché reputo che fare il block out senza la la topologia sotto mi aiuta mi aiuta a non fare sempre gli stessi errori cioè per dire perché se no nel senso tendo a stare un po' troppo sulle forme sulle forme già esistenti e quindi mi aiuta un po' me a essere un po' più sciolto e a diventare un po' più bravo quindi adesso uso questo approccio un sacco e Zivrap lo uso sempre nel senso ormai tutti i volti che ho fatto ultimamente l'ho iniziato non dalle mesh base prima utilizzavo le mesh base sì sì è molto comodo sì hai voglia allora adesso qua questo colletto ci romperà un po' i coglioni però vabbè l'abbiamo messo allora prima cosa facciamo che sia chiuso io me l'hanno fatto scolpire chiuso in fondo e un po' aperto qui quindi non seguirò perfettamente questa cosa qui allora qui adesso con il move topological magari ci perdo un po' di queste due linee dopo potrei farlo anche facendo tipo una bella maschera di queste due linee quindi faccio una maschera che prende solo questi punti e mi rimetto così e poi mi stico insieme però adesso suddivido dai corre perché poi qua ci metterò una cerniera alla fine quindi allora questa parte qui la affondo un po' allora una cosa che io trovo molto utile all'inizio almeno in block out questa non è effettivamente una tecnica o un trick o chissà cosa però è una cosa che torna utile se devo fare una cosa chiusa far matchare queste forme è una rottura di coglioni a meno che non prendo un clay brush lo metto con un embed a zero lo sapete che il clay di base non aggiunge forma lui appertisce solo tutto quello che sta sotto al vostro pennello quindi il fatto che vi innalza la mesh è dovuto al fatto che c'è un embed e quindi in questo modo io flatteno tutto allo stesso livello che tocco se io lo faccio qua questi qua li faccio aggrappare piano piano l'uno all'altro cioè si flattenano perché giacciono sullo stesso piano quindi questo è il modo che ho paraculo e questa cosa la uso pure adesso proprio una piccola parentesi prendiamo una sfera initialize qsphere e andiamo in dynamish va che tanto no che cosa voglio fare che cosa farò mai dai chi indovina vince una bambolina che starò facendo da qua eh un orecchio un orecchio dai su allora se io devo fare un orecchio l'orecchio è la bambolina la bambolina aspetta a me te la trovo la bambolina un attimo è mio un vizioso nel senso l'orecchio l'orecchio qua c'ha sempre c'ha uno spessore minimo quindi è sempre un buon casino chi ha paolo spessore che faccio mi appiattisco la mesh quindi so che adesso questi qua già c'hanno sul stesso piano e poi leggermente posso anche fare un inflate quindi già ho creato lo spessore minimo che mi serve cioè so che questi hanno uno spessore che è minimo è costante quindi questo è il modo paraculo con cui io faccio giacere due cose sullo stesso giacere giacere a me piace a me piace anche giacere non solo la parola no non è questo mi piacerebbe che fosse questo ok allora quindi questo è ripeto non è un trucco un tip da professionista però io ci perdevo un sacco di tempo all'inizio per far match a queste forme poi ho detto ma scusa pirla che so smadono tante volte quando mi succede inavvertitamente che non c'è il back face mask attivo e collassano l'una sull'altra cioè utilizziamolo a nostro vantaggio ok quindi questo è fatto adesso qua in teoria questa parte qui c'è una cinta e quindi qua ci sarà magari più compressione in realtà la compressione qua dietro non c'è perché questa cinta inizia da qua questo qua non è la cinta c'è questo cinturone che sta in qualche modo quindi questo me lo posto qua e adesso cominciamo un po' a scolpire allora quando si tratta di scolpire adesso ho abbastanza suddivisioni io utilizzo il weighted smooth mod da 1 weighted smooth mod da 1 uguale smooth stronger cioè è equivalente a utilizzare il pennello smooth stronger perché utilizzo lo smooth stronger perché lo smooth stronger flattena ma di brutto le superfici quindi è una sorta di pseudo chiamiamolo trim dynamic ma in realtà non è un trim dynamic mi permette di flattenare lungo le forme che ho quindi adesso qui creiamo magari un po' meglio sto gomito e fondamentalmente tante volte muovo e basta non c'ho bisogno di ok adesso comincio a fare un po' di scupte e comincio a focalizzarmi su quelle che sono magari le linee principali allora qua che cosa vedo allora qua c'è compressione quindi queste sono delle linee di compressione e qui c'è un fold che va in questo senso qui succedono cose brutte eh sto in canotta perché io sto su una manzarda a lavorare e se tutto il giorno che ho il computer acceso ho il condizionatore adesso non l'accendo perché è ancora presto ma adesso è un po' è diventato un po' caldo quindi fuori sull'altra stanza è freddo ma qua è caldissimo e sto veramente tra un po' a schiumare allora quindi qua io generalmente utilizzo un pennello che ho fatto io che si chiama cutter alfa che in realtà è uno standard con un alfa un po' tagliente cioè non è niente di che e anzi a volte non è che fa tutto questo grande effetto però comincio un po' a pensarmi quelli che sono le forze maggiori che entrano in gioco allora lui qua ha il braccio un po' tirato indietro e quindi qua c'è un po' di stiramento quindi ci sarà così e quasi come vedete che questa cucitura qua crea un punto di tensione sul vestito quindi qua ci sarà una linea del genere qua così e qua ci sarà comincerà a essere un effetto di compressione me li schiaccio proprio quindi all'inizio non sono iper iper ossessionato dall'idea di fare le cose perfette voglio semplicemente definire grosso modo quello che è il look delle cose che vedo allora qua probabilmente questa piega sarà perché c'è una massa che bene ma lui probabilmente sta un po' tirato indietro quindi questa parte va più avanti qua il giubbetto vedete che fa un po' di sopra avanzo qui quindi qui probabilmente c'è questa shape che va così e qua va così e riprendo qui e qua è super sensibile aspetta un attimo forse ho perso la sensibilità no è semplicemente che ah no perché non è questo ma è questo questo è un altro pennello che si chiama in maniera simile solo che fa un effetto totalmente diverso ok quindi qua così qui c'è questa linea ma qui in realtà è un po' più così dall'inizio comincio proprio a disegnarmele però l'idea è che io so che poi questo ho scelto proprio una delle cose più stronze che potessi prendere ok ah qui ci sarà compressione ci sono delle tasche quindi le tasche me le scheccio le aggiungerò dopo ma devo considerare che lì succederanno altre cose e qui ok qua che succede quando piego il braccio ci sono queste pieghe da compressione quindi fondamentalmente c'è sempre questo discorso delle y c'è una piega e a volte trovate delle contropieghe tutto nel mondo è dominato dalle regole delle forze quindi che siano i wrinkle di una faccia che siano le pieghe di una forza le pieghe di una forza le pieghe di un vestito tutto è dominato dalle forze che entrano in gioco quindi laddove la forza è maggiore la piega è più evidente quindi laddove c'è più compressione ci sarà il punto di maggiore applicazione della cioè ci sarà la piega più visibile quindi qua generalmente è quella più profonda dopodiché piano piano questo effetto di compressione vedete che va a sparire va un po' a morire perché fondamentalmente qua il vestito si rilassa se si rilassa perché se avesse la manica alzata sarebbe diverso però questo è il punto di maggior applicazione della forza e ovviamente se qui piega qua dietro siccome c'è il gomito che viene in fuori qua stira quindi vedete che qua la piega si avviene anche qui però qui ci sarà un effetto un po' più rilassato a seconda ovviamente del tessuto però generalmente qua mi aspetto di vedere meno effetto e comincio anche in questa fase adesso piano piano forse forse non è detto mi scaldo comincio anche a ragionare in termini dei piani quindi all'inizio schercio ma voglio che queste pieghe siano la definizione di piani di transizione perché questo vestito di pelle vedete che ci sono dei chiari piani che hanno una forma un po' diamante quindi qua qua voglio così piano piano va a morire e su questo vestito in particolare vedo che tende a fare queste forme cioè piano qui e poi c'è un altro piano qui e così e io guardo alle diverse reference per creare delle forme che siano credibili perché ovviamente laddove le vedo provo a metterci ma lavori con Morph Target attivo in questo caso? no 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 perché Morph Target non mi serve a niente in questo caso nel senso qua vado semplicemente a occhio magari mettiamo questo e cerco di far sì il problema del scolpire i vestiti che all'inizio fate le pieghe principali ma come nella settimana enigmistica piano piano dovete unire i puntini cioè il vero problema è riuscire a far riportare tutto una volta cioè che avete finito a fare le pieghe che vedete perché quella probabilmente è la cosa più difficile perché poi dopo dietro allora dietro qua abbiamo visto che c'ha sti cosi qui e qua in genere questi robi sembra che cioè non creano un'infossatura in realtà è questo che viene un po' più fuori quindi qua gli facciamo proprio un'ammassata grossa veloce vedete questa c'è qui e in realtà qua il profilo ah voglio vedere una cosa eh sì ok allora ho fatto questa cosa qui io allora ricordate sempre che le maschere lavorano sulla base dei punti quindi se io maschero tutto questo inverto la maschera quando muovo mi porto dietro il punto di intersezione di questi due gruppi sarebbe diverso se facessi così se prendo questo inverto maschero tutto e poi rimetto questo visibile questo rimane in posizione è importante la differenza è importante perché di base siccome questo qua definisce la transizione io voglio che questo venga fuori perché questo sta più fuori e questo sta più dentro se no nel senso tutto un cazzo che ho fatto il lavoro di creare dei gruppi che descrivano le diverse patch questo deve venire più fuori e adesso qua ci sono delle bruttore e questo qua deve stare più dentro poi ovviamente devo ammorbidire però l'idea ecco è che qui voglio forzare proprio con con l'esistenza dei miei gruppi queste transizioni adesso qua ripeto ci sono delle brutture ma amen e qua allora qui ecco bisogna ma le brutture allora se una cosa è da scolpire per il 3D me le tengo oppure rifaccio uno Z-Rimesher una volta che ce l'ho in posizione cioè nel senso se posso evito perché tanto allora io so che questo qua alla fine lo suddividerò e lo suddividerò tanto perché alla fine devo metterci gli effetti di texturing fini cosa che non faccio vedere stasera però l'idea è che se qua è una cosa che con un po' di smooth e un po' di pazienza la metto a posto sti cazzi cioè cerco di farla cadere laddove non si vede se no altrimenti potrei pure provare ma è capitato a volte di fare dei Z-Rimesher una volta messo in posa magari se qua gli ho già dato le UV mi tengo anche questo oppure faccio magari posso vado a fare un transfer delle UV in maia cioè nel senso cerco comunque sia di non perdere il lavoro fatto ecco l'idea è quella aspetta la catteralfa qui ci sarà una tasca e qui ci sarà l'effetto così qua ci sarà la piega dovuta alla tasca ovviamente cerco sempre di pensare che sotto ci sia una forma quindi evitare di shrinkare troppo quindi se devo tagliare molto e vedo che taglio troppo tiro fuori in realtà senza nessun nessun ecco tipo qua questa è una parte su cui potrei perdere mezza giornata nel senso riuscire a raccordare questa piega qui con questa qui cioè che è una cosa che tanto succede nel senso capire ok probabilmente il gomito sta un po' fin qua e quindi fare e quindi girare far girare un po' di più questa piega perché se no non mi si raccordano bene e allora qua magari mettere una compressione transitoria perché vedo che possono accadere quindi qua così e qua magari mettiamo leviamo il way di smooth mode ma semplicemente perché in questa fase non ho abbastanza poligoni per però al di là del tipo di piega che faccio vedete io cerco sempre cioè lo smooth lo uso assolutamente come se fosse un pennello nel senso perché è un pennello nel senso a seconda di dove smutto io posso definire di più un piano o una linea ops e poi piano piano allora un paio di cose che mi piace fare a seconda del tipo di piega nel senso il tessuto può avere delle pieghe che sono più taglienti più flat e possono anche avere delle differenze tra parte avanti e parte dietro anche il tipo di piega la pelle a volte ha delle pieghe molto nette con dei piani molto netti e poi c'è anche delle pieghe di memoria no di memoria no di memoria le pieghe di memoria le acciaccature ce l'ha ma se è molto lisa però io cambio generalmente l'impostazione del mio pennello per ottenere diversi effetti un valore che utilizzo tantissimo è il modifier al modifier in alto mi pincia le forme quindi se devo fare una cosa un po' più tagliente uso questo setup una cosa che non usa quasi nessuno è il modifier in negativo il modifier in negativo me le gonfia quindi io posso fare una piega che ha un effetto un po' più bombato sia in alto che in basso tende a distruggere molto la mesh però di base quando devo fare delle pieghe larghe cioè nel senso che hanno una parte top molto larga mi dà una mano a creare questa impressione che sia un po' più inflated quindi non è tipo seta vedete ovviamente varia a seconda del punto in cui lo devo fare però mi permette di avere questo gonfiore un po' più diffuso un'altra cosa che cambio quando ho un un alfa molto tagliente associato cambio la depth mask la depth mask mi limita l'effetto del mio pennello ma adesso senza andare troppo nello specifico con un alfa molto tagliente me lo rende meno tagliente me lo fa più bombato quindi questo è un altro modo che ho e posso controllare la bombatura sia in sottrattivo che in addittivo sono diverse quindi posso fare in sottrattivo che sia più tagliente quindi taglia di più e in addittivo meno e quindi lo uso molto per creare effettini simpatici qui adesso voglio grazie a tutti buonasera a tutti scusate il ritardo ciao ciao non ti sei persa niente te cazzate manuela chiunque vuoi che io sia è la madonna ma chi sei che vuole ok quindi di base adesso io non so se riesco a far capire bene il mio processo mentale io guardo le linee ma le guardo nel senso di creare i piani quindi vedete che se io tiro su una linea ma qui mi rendo conto che c'è un piano comincio a definire la linea sotto perché so che se poi smutto qui qua si crea non è in realtà non è un piano perché è rotondo però comincia a dare l'effetto di dividere tra i diversi piani qui in realtà tutte le vedete che tutte le pieghe convergono quindi qua ci deve essere questa sorta di forma qui e piano piano cioè nel senso mi muovo piano piano guardando le reference o guardando diverse reference per ottenere degli effetti e dei look che siano convincenti tipo qua sarà così e qui e ovviamente più scolpisco cioè più guardo tanto purtroppo sto lavoro ti fa diventare pazzo perché più guardi una reference più ti accorgi delle cose più realizzi che dici oh cazzarola qua allora prima di tutto questo sta un po' più così ma qua c'è un piano e quindi dopo l'ultima cosa cioè si comincia a ruotare il modello e si fa sì che le linee riportino giuste da tutte le angolazioni e che tutti i volumi siano giusti perché ecco qua adesso apro una si dice semplice sempre questa diatriba o no fare le cose in 3D è più facile è vero che fare cose in 3D è più facile probabilmente una delle cose che posso dire con certezza è molto più semplice almeno se sai come cioè se sai utilizzare gli strumenti da scolpire in tradizionale suoi vestiti perché il problema c'è nel senso in tradizionale tu quando metti giù una linea intorno ti si alza la massa cioè il principio della conservazione della massa quindi se io con una spatola prendo e tiro in qua per scavare mentre tiro da questa parte qui alzo in automatico invece in digitale purtroppo non esiste il fantastico principio della conservazione della massa per cui quando voi tirate giù una linea dovete fare voi la vostra matematica per capire come tirare la sua un altro svantaggio del lavorare in digitale è che voi tante volte pensate di stare a scolpire un bel piano poi quando girate fa schifo cioè perché purtroppo il problema è che tanto cioè non si scappa non esiste un metodo per essere sicuri che voi cioè io sto tirando delle linee immaginando nella mia testolina calva che questa sia dritta ma questa quando la giro non è dritta quindi me la devo andare a ricomplementare può aiutare un po' a volte avere questo effetto di pinching perché aiuta a creare qualcosa di più dritto però poi dopo devo andare a smuttarlo perché non voglio che si veda questo effetto super tagliente qua c'è un piano transitorio e piano piano con la calma e con la vasellina anche l'elefante alla fine si inchiappetta la gallina quindi nel senso ripeto ma che è scritto no ma non l'avevo sentita sta cosa dai adesso avevo la formiglina un po' per la gallina e dai perché fa rima con vasellina scusa no perché poi immagino che uova tirerà fuori beh meglio quella del pipistrello che di sto periodo o il pangolino con la calma il vasellino inchiappettato il pangolino però dopo se prende il virus quindi non so se ci sono domande io una cosa che consiglio è comunque studiate molto questa probabilmente è una delle cose più difficili che vi si chieda di fare cioè un giubbetto di pelle molto pensavo studiare sì no anche studiare studiare è difficilissimo no però l'idea allora io vi posso dare un paio di dritte per me è stato assolutamente illuminante a parte accendere la luce perché già vedevo Franchino ti leggo nel pensiero ormai quando mi è capitata l'occasione mi è stato chiesto di lavorare per una ditta che faceva ricostruzioni in marmo da scansioni quindi quando mi è capitato di lavorare a delle scansioni di vestiti perché quando voi un vestito lo vedete com'è in 3D realmente vi rendete conto che tante cose che vi immaginate non sono come ve le immaginate anche perché quando voi vedete un vestito in foto manca magari di quelle informazioni di rugosità e microtexturing che danno il vero aspetto al vestito quindi l'idea è non farvi assumere dalla ditta ai marmisti con cui lavoro io sennò vi spezzo le gambe no scherzo non scherzo per niente no ma è guardare alle scansioni perché io da lì poi erano tempi in cui magari non c'era il 3D Scastore adesso esiste il negozio 3D Scastore in cui potete acquistare le scansioni ma c'è anche delle foto quindi anche già solo dalle foto voi potete rendervi meglio conto di come appare un vestito però se ve lo comprate potete vederlo anche con diverse rese materiche perché questa è la vera descrizione tante volte tante volte noi lo vediamo ma non ci immaginiamo che il jeans sia fatto così ci immaginiamo che aveva le pieghe o più tagliente o più morbide di quanto non siano e quindi vedere come di fatto un vestito è in 3D aiuta così come vedere un corpo perché è lo stesso discorso dell'anatomia solo che c'entra anche un po' la camera forse con cui lavori pure per le forme dico aiuta anche a capire un po' l'angolazione della camera con che camera lavori però guarda che anche quando tu una cosa la vedi in grey è diversa da quando la vedi sotto una condizione di illuminazione quindi di base quello ti aiuta io tipo quando mi ricordo lavorai alla scansione del papa quello di Cattelan e lì proprio c'ho avuto la possibilità di vedere questo mantello che se tu lo vedi si è velluto cioè non è velluto è seta ma c'è la seta di base è fatta vediamo sto cazzo di dynamic cioè c'è c'è delle pieghe che sono così porca Eva si si ma proprio tanto e a volte c'è pinch e poi il pinch scende sotto sul qua sotto quindi c'è una cosa del genere ma tanto quindi quando la vedi dici cavoli allora è così così magari è un po' troppo però per render l'idea capito e quindi vedete che già qua gli cambia totalmente il look alcuni vestiti adesso qua leviamo sta roba tipo ma anche qui posso vedere che un'altra cosa che faccio spesso torniamo indietro 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 vediamo questo effetto di pinching tra questa linea e questa qui c'è ops questa cosa così non so se si percepisce ma qui c'è una una sorta di linea tra questo e quindi fondamentalmente c'è più guardate le reference tipo qua così poi smutto perché voglio avere questo effetto boom che va in questo modo qua così ah no ma allora di base allora io adesso la sto la sto però ti devi prima focalizzare su quelle che sono le linee base quindi qua fondamentalmente dovrei fare prima così leviamo il pinching e mettiamo magari pure la depth mask che a me piace quando mi fa la piega un po' più bombotella dall'inizio all'inizio tiri queste linee e magari qua posso utilizzare quelli di smooth mod 1 guarda tipo qua ecco allora adesso guardo qua qua questa la voglio un po' più lineare qua faccio la taglio un po' di più e poi ok ricreo qui il piano perché vedi se io uso lo smooth qui e qui mi rimane questa traccia ma non mi rimane una linea quindi ho creato in automatico i diversi piani e come succede per la scultura organica l'ho smuttato devo smuttare no qui magari no qua non c'ha questo effetto così ma qua va proprio diretto qui e qui però ripeto guarda che più lo fai nel senso pure per me all'inizio prima quando ho iniziato io poi so dissimulare un sacco bene perché lo faccio da un sacco di tempo che spiego le cose online un po' di meno però però dissimulo ma all'inizio io mi cago mi cago in mano perché nel senso dico oddio sto a fare una merda però piano piano so che tanto se ci metti pazienza alla fine ti viene cioè all'inizio non ti sembra giusto perché tanto stai scolpendo a parte e già guardi dici oh no però qua non mi funziona però è normale cioè nel senso tu e ripeto questo è magari una delle cose più difficili ma in realtà poi tutto è difficile perché pure un pantalone a volte devi da pure il il tragico overworking qua facciamo sto bell'effetto di compressione perché sembra che li metti sulle folding machine i vestiti cioè ti viene un tripudio di pieghe eppure quello cioè nel senso è una cosa che bisogna evitare però ci vuole solo la pazienza l'osservazione cioè adesso io poi sto andando un po' pure a cannone perché comunque non me ne va le fa addormentare però quando hai fatto passalo eh eh che hai fatto passalo che cosa il cannone ah fangulo sì comunque quando sei stupo fare i fold e tutte quelle cose là è una mazzata negli zebedei sì a me rilassa in realtà è una delle poche cose nel senso all'inizio mi mette un po' di ansia però è una delle poche cose che dopo quando parto eh vado tranquillo perché sì cioè devi farli che sembrano quelli però però nessuno ti dirà come in un viso o no non gli assomiglia oppure un mostro non è abbastanza mostro cioè i fold una volta che tu hai studiato e sai che è una forma incredibile cioè una volta che l'hai messi la tipo le cose che che da evitare assolutamente è tipo ogni tanto vedi dei fold che va così ma anche c'è un errore proprio comunissimo che che è proprio anche abbastanza odioso nel senso questo cioè questo lo fa tutti ste cazzo di doppie linee allora un fold tu te li puoi pure inventare cioè io posso pure far così ma io so che se qua c'è un fold così arriva qui allora qui c'è deve essere la contro la contro linea adesso voglio allora voglio che questo fold la gravità e l'effetto delle forze vada più qua lo vanno in qua ma se qui voglio che cambia effetto e faccio così qua c'è deve essere un'altra cosa e qui c'è deve essere un piano cioè se io nel senso ci metto un po' di logica vedi che io me li posso pure inventare i fold sì sì esatto cioè basta capire la logica delle pieghe puoi anche inventarle per creare quell'effetto tipo di compressione di piani l'importante ecco poi un'altra cosa importante cioè nel senso se tu devi capire cioè devi immaginarti le forze che entrano in gioco però devi immaginarti e devi immaginarti anche come si mixano perché è poco probabile che qui magari c'è un effetto di compressione perché lui sta in un certo modo e poi di botto il vestito comincia a scendere quindi devi in qualche modo riuscire a unire tutti i puntini tipo qua lui c'è il braccio un po' così e lo vedo anche qui quindi qua allora c'è una piega così perché il vestito qui gli tira così e qui sarà così però qua le forze che mi immagino saranno queste e qua la gravità al limite qui potrà avvenire però siccome poi qua c'è la cinta so che deve arrivare qui e se qui cambia direzione qua ci sarà una contropiega cioè adesso ripeto è un po' difficile spiegare proprio il processo mentale con cui tu piano piano acquisisci il settimo senso quello dei cavalieri capito però il fatto è che le cose singole funzionano e poi alla fine farle unire tutte quante è lì il problema quello è l'unico problema dei fai vestiti cioè nel senso perché una piega la sappiamo fa tutti cioè nel senso a me mi dici fa una piega e vabbè grazie a cazzo fatto la piega io solitamente mi dicono io non faccio una piega però ecco nel senso io una piega te la faccio te ne faccio pure un'altra cioè questa è una piega cioè te faccio pure una piega il dia per fold cioè uno due tre quattro e quando devi unire ovviamente siccome c'hai sotto un corpo e c'hai delle forze che entrano in gioco su una cosa imposa è un pelino più complessa la cosa è più complessa anche a seconda del tipo di vestito che tu hai però cioè alla fine cioè ci arrivi nel senso adesso questo è molto lo poli però cioè è quella cioè gli effetti c'è sta tutti e se tu lo guardi a tutte le angolazioni riporta anche qua dietro una cosa se voglio fare una cosa un po' più netta io non lo uso quasi mai il Trin Dynamic perché il Trin Dynamic mi è stato molto stilizzato quindi però tipo qua posso posso utilizzare un effetto con un effetto un pennello con un effetto di flattening ma può anche essere un clay e qui posso andare a flattenare un po' piano piano ma anche un H-Polish cioè in realtà non esiste un pennello per fare qualcosa è come tu lo usi però se voglio flattenare ovviamente vedi che qua comincia a dargli l'effetto più di pelle qua è un po' più è un po' più come dire è compressa e quindi fa pieghe qua è un po' più rilassata cioè nel senso un po' più tesa quindi un po' più tesa e quindi le pieghe che si creano è perché magari qua è sovrabbondante perché lo vedo che c'è uno shading e qui la luce va qui e qui la luce va qui quindi qua in tre dimensioni sarà un po' più così non eccessivo però sarà una cosa del genere e quindi qua prevale innanzitutto questo piano e poi qui le pieghe che avvengono sono le stesse che abbiamo visto prima sui pantaloni perché qua arriva e qui praticamente cioè nel senso si crea questi due piani e queste due pieghe sono un po' più quelle tipiche della pelle e vanno un po' più a essere a essere meno dovuta alla compressione ma sono un po' più nette cioè nel senso vedi che sono un po' più planari cioè nel senso io vedo che qua questa è un po' più morbida e qua invece ci sono dei piani più netti non so se riesco a spiegarmi però così qua adesso lui qua ce l'ha abbassato quindi il colletto gli fa questa cosa invece se ce l'avesse ci avevo pure qualche reference col colletto alzato quindi qua probabilmente prevaleva un po' più l'effetto così poi in realtà se ci avesse la spalla un po' più alta ah in ultimo no vabbè facciamo finta che abbiamo adesso qua è diventata una camicia in realtà sembra quindi dovrei un attimo lavorarci un po' di più però per il tempo che abbiamo a disposizione alla fine quando ho finito il mio lavoro dei fold ovviamente arriva il momento di fare gli effettini gli effettini li metto sempre su dei layer perché sui layer ho la possibilità di accendere e spegnerli se devo modificare le forme base primo effetto sono le cuciture quindi che cosa va sopra a cosa in un giubbetto di pelle o anche in un pantalone di jeans una delle patch sta sopra e una sta sotto ho diversi modi per farlo potrei ad esempio prendere questo maschero tutto no aspetta facciamo così facciamola diversa va facciamola proprio zozzissima io in genere li scolpisco in genere mi faccio un pennello chisel vediamo se lo trovo va troppo stupido forse sta qua brushes cucitura 1 forse si è una cosa stupidissima è un pennello che ha un leggero effetto di parte che va sopra così semplicemente perché questo è un vector displacement brush e quindi so che praticamente mi altera la mesh e me la spinge anche sopra quindi leviamo il polyline magari lavoriamo solo su polyframe mi salvo un bel morph target adesso la mesh non sarà molto suddivisa quindi ai fini della demo magari non fa un grosso effetto però mi muovo qua e questi me li faccio a mano prendo un po' di sana pazienza e mi scolpisco ste pieghe e uso il morph target perché essendo un displacement vector brush so che se ricomincio il tratto dove l'ho finito non mi si sovrappone ops così se volessi cioè nel senso se sento che cioè capisco che non è proprio l'effetto che voglio o me lo rifaccio ma in realtà qua passerei sopra con un inflate brush o addirittura se voglio risparmiare tempo faccio così ok facciamo un mask by feature con l'opzione groups quindi ho creato fondamentalmente la maschera di questi soli gruppi poi adesso mi isolo questo qui quindi ho questo bordino mascherato solo questo non questo davanti questo lo smaschero che a volte cioè saper fare le cose nel senso sapere usare le opzioni aiuta è vero che uno non deve affidarsi ai programmi per fare le cose però i programmi hanno queste cose che ci permettono di creare un automatico faccio un inflate uno e un altro stai zitto tu no così forse è un po' estremo devo un po' sfumare la maschera ok forse un po' più così adesso è molto lupoli però in questo modo ecco mi sono creato l'effetto e poi se lo vedo che è troppo estremo ancora faccio un bel mask by feature prendo questo e qua la smutto un pelino ma potrei anche fare uno smooth brush però ecco così mi suona un po' più un po' meglio e poi alla fine nel senso a volte te le scolpisci le cose quindi prendo questo maschero tutto tranne questo e qua magari clicco fuori perché ha perso la ok con un damn standard un pennello che taglia infosso un po' la mesh e se io faccio con un radius grosso sulla parte mascherata comunque questa parte viene alterata quindi vedete posso piano piano spingerla in dentro così e quindi qua e piano piano mi muovo su tutte le parti quindi questa sta sopra e qui c'è un'altra ah l'unica cosa i pennelli Kisel con un morph target non potete usarli su una mesh parzialmente visibile quindi dovete avere tutta la mesh visibile e a volte è un po' un casino andare qui sotto quindi però vabbè amen quindi qua adesso prendo questo e mi scolpisco qua e qui sono direzionali quindi in genere me ne creo uno che ha la mesh così e la mesh inversa perché se no posso andare solo in una direzione in realtà qui no qua è questo che va avanti adesso non mi ricordo vabbè però invece qua è questo qui che dovrebbe andare sopra no dall'altra parte adesso qui non è abbastanza suddiviso e qua c'è una linea brutta quindi qua potrei provare a fare su queste linee un mask by feature qua raddrizziamola un po' ok no solo da una parte devo andare e qua vado a fare questa cucitura qui per le cuciture in realtà se sono così piccole io me le scolpisco è inutile che me le vado a fare a mano se in realtà ho una cosa un po' più complessa più grande eccetera le posso pure mettere in geometria potrei tipo prendere una parte tipo questa qui praticamente che faccio faccio una selezione e faccio uno shrink della visibilità poi vado qui e vado su extract faccio un extract perfetto di questa di questa roba extract always ok accept ok guardiamolo in solo mod e ora voglio mettere la cucitura guardiamo da qui a qui allora con uno slice taglio magari non so perché no sto operando su non mi estratto extract accept ok adesso questa è l'estrazione allora qui dove voglio far finire metto dei polygroup perché adesso poi in realtà potrei farle pure due diverse le cuciture così me le gestisco meglio faccio presente che che questa mesh qui è un po' più stretta cioè io l'ho stretta in modo da avere il bordo delle cuciture adesso per le cuciture posso facciamola proprio semplice semplice prendo sta capsula e la metto un po' infossata io attivo il curve mode adesso qua potrebbe esplodere perché no non è tanto suddivisa quindi va bene curve mode però io metto un lazy snap un lazy step qui tipo 1.6 così sono distanziate adesso sono sono delle cuciture enormi però l'idea è questa qui cioè se le vuoi fare in geometria mi creo un insert mesh fatto ad hoc e le inserisco come geometria e poi dopo qua ci metto un leggero inset una riga di inset per per poter avere l'effetto questa qui questa tecnica l'ho utilizzata tipo sul John Wayne però qua mi sa che non ce l'ho ma ce l'ho adesso ci metterò un botto a caricarlo per le cinghie le cinghie siccome era grossa la statua c'era bisogno di avere cuciture in geometria sulle cinghie quindi l'ho fatto è così io mi creo generalmente il board e utilizzo l'opzione curve degli insert mesh brush per poter seguire e snappare su un particolare board un polygroup cioè io li uso molto i polygroup per morto sto tool è enorme quindi ma scusa Daniele la riga di inset sono le formiche da uno a dieci sto livello di stupidità mille allora qua ecco questo è come ho gestito tipo sta cinghia sta cinghia allora qui c'ha la geometria che corrisponde proprio ai tagli e quindi praticamente qui mi sono estratto ma in realtà l'avevo già fatto su sta mesh qui adesso questa è super suddivisa però ecco avevo questa qui e questo era un polygroup quindi avevo fatto una versione lo poly in cui da qui ho utilizzato un pennello che mi son creato ma sono delle capsule però un po' più lunghe per creare questo effetto di cucitura e questa cosa su sto modello sta tipo un po' dappertutto ha tipo 121 milioni di poligoni quindi è una cosa assolutamente improponibile però l'idea è che se dovete farle in geometria potete assolutamente farle in geometria perché tanto adesso avete la possibilità di seguire una particolare forma in realtà cioè la conoscenza è potere perché nel senso se tu sai ecco qua io poi le cuciture cioè una volta che mi sono fatto il mio insert mesh cioè il mio pennello vector displacement prendiamo sti pantaloni e faccio sempre uguali perché vedete che questo è il pennello che ho usato prima qua nel senso fondamentalmente non la statua è un sesto quindi non c'ho bisogno della super fedeltà assoluta a volte ci metto anche le cuciturine scolpite però tipo con questo qua il pennello di Ryan Kingsland via e le scolpisco però qua c'ho bisogno di un po' più geometria però a mano si fanno a mano e generalmente col dynamic on perché col dynamic on per roba tipo cucitura o insert sono sicuro che se zoom o out comunque mantiene la stessa dimensione e generalmente è buona regola anche attivare il lazy mouse mettere un bel lazy snap così se inizi un tratto e poi ti prende un attimo scompenso adesso questo fa cagare quindi facciamo così facciamo che premo pure shift per fare le linee dritte va tipo così poi mi fermo perché so stanco e perché se poi mi sbaglio non mi vai a fare randu mi risnappa a questa parte e posso continuare generalmente per queste cose disabilito anche sul table pressure la variazione di size e anche di intensity cioè voglio un pennello che fa una cucitura che è sempre grande uguale a seconda di quanto premo è sempre intensa uguale bam così c'ho la perfetta costanza delle forme nessuna battuta da parte di franchino circa costanza guarda sì tra l'altro è di macerata un'amica che si chiama costanza sì è anche amica mia nonché la sorella di un mio ex batterista quindi esatto l'amica di valentina eh sì valentina cazzo macchione eh sì ma sei proprio forte sono forti e se cazzo la macerata c'ha due persone una sorella l'altra valentina quindi così ma sulla cucitura lì un secondo quando hai fatto con il feature che hai fatto la cucitura sopra ci sono quelle righine che vanno in senso le hai fatte tutte a mano quelle lì queste no le righine quelle là che sono no queste no questa è una texture io perché ah una texture ok no io nel senso perché fai le UV perché tutti i pattern ma tutti cioè a parte la pelle la pelle la devi fare a mano perché la pelle non c'ha un pattern ma tutti i pattern ripetibili cioè questi sono applicati come io ci metto mano cioè ci metto mano manco gli alfa per andare a fare gli effetti di un po' differenziazione eccetera ma tutti questi pattern io mi sono comprato ai tempi tutte le scansioni di Surface Mimic ho speso tipo 600 euro e tipo un mese dopo si trovavano a scaricare quindi mortacci loro però va bene perché bisogna bisogna comprare le cose per lavoro e e niente io cioè nel senso i pattern i pattern si fanno sempre anche qui cioè a mano tu fai le cose che non puoi fare diversamente è vero che ci cioè devi sempre metterci un minimo la sensibilità a quella cosa per dire ok famo che non sembri troppo regolare ci mettiamo un po' di 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 però il layout lo fai lo fai lo fai lo fai con gli alfa cioè io io ho gli alfa delle varie pelli mi sono comprato pure quelli texturing xyz che costano sfracello mi sono comprato un set c'è le pelli di 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 il brush che ho creato ha solo l'alfa in particolare cioè in realtà è un quadrato messo a 45 gradi perché così di taglio non c'è niente poi io sui pennelli io li cambio un sacco i settaggi perché puoi vedere che questi qua cioè questo con questo, c'è lo stesso alfa perché anche questo a me piace quest'alfa perché mi fa proprio una linea come la voglio io, cioè nel senso un sviluppo come lo voglio io, ma in realtà l'alfa dice poco, cioè io cambio i settaggi a seconda di quello che penso che mi possa tornare più ma in realtà cambia poco cambia veramente poco effettivamente magari per dire il modifier a meno 100 no meno 100 in negativo perché meno 100 sarebbe un botto che mi gonfia un po', cioè questo potrebbe anche essere fatto tipo così e ripassandoci con un inflate solo che risparmio tempo anche se poi mi crea un po' di artefatti però, cioè te la devi un po', secondo me in realtà ogni persona piano piano man mano che va e ultimamente io ultimamente non non scero più neanche tanti pennelli ma non perché perché a me non mi è fregato un cazzo di scerare la roba perché tanto se su una cosa su una cosa con cui mi trovo bene io tipo ho sto pennello per creare i peli che c'è tipo sempre Valerio che dice ma io non so come fai a faccia i peli perché se lo uso io so come usarlo e se lo usa un altro magari non c'è lo stesso effetto a parte che questo poi si usa bene con lo scattris però via dicendo però l'idea è che non do tanti pennelli perché poi se no se alla gente gli dai la ricetta magari dopo utilizzo quella in maniera brainless e a parte che comincia a vedersi magari delle cose che assomiglia a livello perché cioè è vero che i pennelli non fanno non fanno lo scultore però è vero che qualsiasi scultore anche tradizionale ha il suo pocket con le spatole sue cioè c'è qualcuno che se le costruisce proprio le spatole quindi siccome queste sono le spatole che mi sono costruito io e quindi definiscono anche un po' in qualche modo non definiscono ma influenzano l'output visivo che io do alle mie sculture quindi di base preferisco spiegare più la logica e lasciare che sia la gente che si crea i suoi si crei i suoi sette pennelli che poi magari saranno uguali perché tanto comunque se i principi sono gli stessi però l'idea è così anche favorire un po' lo spirito critico perché se no è vero che hai ragione sono completamente d'accordo con te 200 euro va bene? sì se uno mi paga volentieri cioè tanto tanto so che cioè tipo io compro un sacco di risorse tipo ultimamente ho dovuto fare il pezzo quello dell'esorcista adesso qua sto rovinando il lavoro in cui avevo bisogno di fare delle rocce ho comprato i pennelli delle rocce di Pablo Mugno Pablo Pablo Gomez che il ragazzo di Zebras Guides che sono fichissimi però sono fichissimi un paio nel senso che io per me per come li uso io un paio li trovo un sacco utili il resto il resto non ci faccio molto quindi so che dipende cioè dovrei un attimo studiarli meglio capire meglio come funzionano eccetera però il più delle volte quando non sei tu a farti le cose magari non capisci neanche come farli funzionare al meglio quindi laddove è possibile certo cioè se devo fare una cucitura cioè una cucitura mi vado a cercare immagino la cucitura però le cose che uso per scolpi a mano generalmente tendo sempre a rifarmele da zero dopo so magari che io mi sono creato una volta sto pennello che mi piace un casino per fare effetti di rottura intorno alle cose però devo cambiare un po' di di settaggi perché questo di default non prende cioè questo qua a me piace un casino perché sbriciola tutto e se ai bordi mi fa un effetto di sbriciolamento che mi piace un sacco una volta che l'ho creato lo riutilizzo cioè sti cazzi non è che mi sto sempre a reinventare l'acqua calda però di base cioè uso le cose cerco di utilizzare le cose che ho fatto io ma poi a volte perché non le tue cose vai in ignoranza ci muovi un po' le cose vedi come vengono se ti piacciono sì 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 no ma sì ma guarda io ti posso far vedere che in ogni progetto no poi io mi riprometto sempre in ogni progetto io mi creo dei pennelli poi qua c'è questi qua ce ne stanno altri perché poi le cuciture le rifaccio sempre no in realtà le carico a volte dai progetti precedenti e no qua non c'è stannamente non ho fatto nessuno qua ne avevo fatti tantissimi perché perché c'avevo la cartuccera la cucitura c'avevo il fregio c'avevo c'avevo le orme dei cavallo cioè quindi e poi dopo non me li salvo quindi questi vengono persi sui sui hard disk esterni qua forse qualcosa c'era ma stanno dentro però se tu guardi qualsiasi qualsiasi cosa già da qualche parte i sfinanci stanno sempre dappertutto perché li copio perché li uso sempre quindi però qua nel senso te li fai a volte a volte lo trovo non più semplice ma lo trovo più tipo qua adesso ho fatto sto fondrago quindi mi sono fatto il pennello per il dente ho fatto il pennello questo che c'ha gli artigli e le scaglie che c'erano mille le scaglie però nel senso a volte piuttosto che andarle a trovare tu sta vedere che sono quelle eccetera me li ricostruisco pure per il robo del contest visto che ci siamo ok che era questo il bestiolone sì però per questo qua dai ok se tu vai a vedere mi ero creato milioni di pennelli perché c'era questo per fai buchi perché questo qua c'ha tutti sti buchi quindi mi ero fatto sto pennello per fai buchi e via no certo buonanotte sta qua devo cambiare tratto drag ritengo quindi bubi come se non ci fosse domani nel senso te ne fai uno e poi rispalmi a bomba però per tutte le cose qua l'effetto questo effetto bordo è che da utilizzare con il stroke così per fai bordi che vanno uno sopra però poi non mi piace a me lo so fatti a mano però li creo sempre i pennelli cioè nel senso a volte trovo che sia molto più veloce quindi detto questo io non so se ci sono altri ma io spero di essere stato un po' esaustivo non doveva essere una cosa onnicomprensiva ma giusto per dare un po' un'idea di quello che è grosso modo un workflow se poi ci sono domande ci sono domande ben felice di rispondere se no se ci sono domande io non ho la pretesa di scolpire una cosa davanti a 42 persone e avere la pretesa che venga bene nel senso io quando faccio le cose per lavoro ho bisogno di stare in una situazione di trans da solo che non mi rompe il cazzo nessuno quindi trans è la parola da solo non mai da solo con un trans è un fallito vabbè cioè detto questo io non so se ah no una cosa ricordate che il contest scade domenica il 3 sì quindi il 3 entro mezzanotte sì allora per un panneggio stylized Fabrizio ti posso dire che lo stylized meno meno fai e meglio è allora per uno stylized generalmente tu vuoi avere un effetto di fold molto taglienti magari leviamo gli store gb intorno a delle forme altresì molto pulite e cerca cioè cerca l'idea è quella di se tu guardi i panneggi della Disney cioè i panneggi della Disney sono tutti caratterizzati dall'avere questi piani che sono super polished con delle linee che non fanno mai questo cioè questo è odioso cioè fai sempre degli magli e così delle cose che poi in teoria dovrebbero il top il bottom se riesci a farli morire sullo stesso punto è pure più figo perché ti crea degli effetti interessanti però il panneggio stylized è un bel dito nel culo perché poi il panneggio stylized devi girarlo da tutte le angolazioni e da tutte le angolazioni deve funzionare bene tipo quindi qua di base dovresti avere qualche cosa che va più così poi anche giocarla con le maschere perché io a volte le maschere è una cosa che dimentico che esistono ma se io mi creo una bella maschera cioè poi posso giocare andando a scolpire contro la maschera però in teoria te la svagheggi con lo smooth poi dipende anche dal tipo di stile che gli vuoi dare però una cosa del genere potrebbe potrebbe essere pochi e pochi cioè se tu guardi guardi i lavori o vedi i lavori di uno bravo a fare stylized poi dipende dal tipo di stile però se guardi i lavori di lì ti rendi conto che un panneggio stylized c'ha veramente poca roba questo ce n'ha veramente poca però ce ne sono alcuni che ce n'ha un po' di più perché mi ricordo che l'aveva postati questo affanculo del coso non si vede niente ecco questo qua nel senso vedi che giochi con poca roba che crea dei piani molto definiti e addirittura vedi qua non c'è per niente c'è solo questa idea però dipende dallo stile però più lo stilizzi e più vai a levare nel senso qua addirittura c'è solo questa shape che suggerisce l'esistenza del ginocchio mentre qua l'effetto di compressione è dato con pochissimi piani cioè c'è un piano e c'è la tipica forma della forma dei diamanti del coso di compressione ma poco quindi se ti fai una cosa di compressione adesso ho guardato le referenze quindi ops faresti e poi qua le fai unire insieme e qua fai la contropiega e poi te la devi giocare con lo smooth per far sì che queste linee e queste linee diventino non vuoi avere nello stileize non vuoi mai avere queste cose che fanno delle linee insicure quindi tutte le shape da tutte le angolazioni devono fare delle forme che sono belle solide belle descrittive quindi qua evidenzi un po' di più la transizione e te la giochi così ok sembra facile a vederlo ma è difficilissimo fa un panneggio così pulito o te lo puoi provare però il modellello polibro o te lo fai così e poi te lo ziri mesci adesso provo a ziri mesciarlo magari mi prende le linee principali e allora pulirlo perché a volte ziri mesci mazza quando ci mette ok e quindi qua qua c'è una buona base con magari le linee che sono già descritte quindi adesso si tratta solo di pulirle e ripulirle che vedi qua c'è già l'impression l'impression di quello che avevi fatto quindi se lo evidenzi un po' di più però tutto sommato c'è qui intorno cose un po' più pulite ok sì il crepolish il crepolish fa schifo a me cioè a me non piace il crepolish si vede quando lo usi cioè si vede proprio perché è proprio un effetto che si nota perché oltretutto ti smarmella laddove non deve smarmellare cose fatele sempre a mano cioè guarda il crepolish fidati cioè c'è proprio un aspetto riconoscibilissimo è come quando fai ecco come quando fai i panel loops a cazzo di cane tipo prima abbiamo parlato di come si fanno le hard surface in ZBrush mirror and weld ok una cosa che spesso io quando tipo spiego il i i panel loops nel senso il polish by feature cioè li spiego facendo vedere che se tu tagli delle cose delle forme e poi utilizzi il polish by feature c'hai la creazione adesso qua no qua voglio tenerla però sta linea qui così dai e e anche qua ok brutto proprio eh mirror and weld ok facciamo un polish by feature bom cioè bellissimo nel senso c'è tutto super polished quindi c'hai le linee pulite poi gli dici guarda poi se a questo punto fai i pannelli col panel loops ma wow che figata c'hai pure i pannelli però se vede cioè nel senso tu se io guardo questo io cazzo questo è un panel loops tu in realtà cioè devi sapere usare le cose cioè devi usare le cose in modo che non si riconoscano che le usate quindi il clay polish dico questo perché il clay polish in particolare si vede sempre che lo usi perché te fa degli artefatti nel senso ci puoi penare quanto vuoi ma te fa degli artefatti dove non li vuoi e te fa degli effetti come non li vuoi cioè sembra proprio la uno stile diciamo simil simil qualcosa blizzard ma semplificato e fatto male cioè poi non lo so se blizzard io non so molto dentro però mi dà l'idea di qualche cosa di costelline un po' smartellate però fatte male cioè fatte fatte a caso quindi io generalmente cerco di evitarlo perché perché si vede però poi ognuno nel senso anche perché poi magari tu dici rifinirlo a mano rischi che rifinendolo ci metti più tempo che farlo a mano io generalmente evito perché ci ho provato un po' di volte ma non mi ha mai dato risultati che me soddisfacevano e poi ripeto per me l'importante quando faccio le cose scusate se mi dilungo è che si riconosca che l'ho fatta io cioè nel senso deve cioè siccome tu scolpisci cioè nel senso tu scolpisci quindi si deve capire che sei tu che l'hai fatto poi al di là del fatto che ti avvantaggi delle tecniche però se c'è una funzione che si riconosce troppo io quella la evito perché perché mi toglie proprio poi mi dà quell'effetto randomico che io non riesco a controllare e se una cosa non riesco a controllare là mi dà fastidio ok ma insomma 42 persone siamo veramente troppi stasera ma intanto è arrivato pure il signore delle tenebre non ti avevo visto da mo' che sta il signore delle tenebre vabbè io da mo' che ci so quindi io guarda faccio una cosa risponde pure in chat te ne sei accorto infatti sì t'avevo visto t'avevo visto fermo il recording perché tanto ho finito del puttanate avrei potuto per la notizia